Hey, ciao! State per guardare la sesta puntata della terza stagione del Breaking Italy Night con ospite uno dei comici italiani più riconoscibili d'Italia, Valerio Lundini. La puntata sarà esattamente come ve la immaginate, nel senso che ho cercato di capire se Lundini reciti un personaggio o sia davvero così, e mi sa che è così raga, è una roba incredibile. Per me è stata una serata divertentissima. Prendo quindi giusto un momento per ringraziare tutti voi che continuate a premiare questo progetto strano che non è proprio un podcast, non è proprio un contenuto tipico da web, non è televisivo e ringrazio quindi anche gli sponsor di questa stagione, che ve lo assicuro, per quanto concerne gli argomenti che tratteremo di volta in volta, si muovono al buio quanto gli ospiti. Nessuno sa mai niente, quindi immaginate la fiducia nei miei confronti, gliene sono molto grato. Quindi grazie a NordVPN, che sapete bene chi sono, e grazie a Tridom, che è come da tantissimo tempo e che mi ha chiesto di dirvi una cosa. Tridom è un gruppo di persone pazzesco che fa una cosa gigantesca, cioè piantare alberi e dare la possibilità a tutti noi di contribuire digitalmente, facendo il gesto virtuale di piantare questi alberi che però sono veri e seguendo poi i progetti agroforestali in giro per il mondo. Ad oggi la nostra foresta virtuale è gigantesca, ha più di 7600 alberi, tutti piantati da voi, ma per l'Earth Day, il giorno della Terra, hanno deciso di impegnarsi anche in un altro senso, facendo da media partner a Plastic Free, un'associazione di volontariato che insomma si chiama Plastic Free, quindi di cosa si occuperanno mai? Il 22 aprile quindi Tridom sarà a Firenze a piazzare Madonna di Loreto per partecipare a una grande raccolta di plastica e di spazzatura, quei gesti collettivi e simbolici che non solo aiutano da un punto di vista pratico, perché la città è più pulita e più bella e banale, ma fanno stare bene e stringere legami con altre persone attente alle stesse tematiche, che significa che se ci andate c'è la certezza che incontrerete altri della community di Breaking Italy e magari scambiarvi con le loro opinioni sulla puntata che state per vedere. Quindi è un sabato, andateci e due cose. Se incontrate altri della community, fatevi una foto con loro e mandatemela che mi fa piacere e due, dite ovviamente a quelli di Tridom che vi mando io. Nel senso, sussurrateglielo proprio nell'orecchio, come fosse una minaccia. Sono sicurissimo che gli farà piacere. Bene, era tutto. Vi lascio a Lundini. Prendetevi da bere e mettetevi comodi. Sarà interessante. Ed ora per Breaking Italy Night, Alessandro Masala! Molto bene! Buonasera! Buonasera! Ancora un po', ancora un po' che po' giochetti. Ah, come andiamo? Siete pronti? Siete pronti? Ci facciamo due ore di debito pubblico? Parliamo un attimo di PIL e di politica e di cose. Non so quali sono le vostre aspettative stasera, in effetti. Io tutte queste serate le faccio sempre per, in realtà per divertirmi, perché insomma, cioè lo faccio a vostre spese, sostanzialmente. Faccio un sacco di cose a vostre spese. Posso incontrare un sacco di gente, ve la dico sempre questa cosa. E cerco sempre di mostrare i personaggi e le persone che sono dietro i personaggi. Mi sento un po' in difficoltà oggi, perché non è chiarissimo quanto ci sia e quanto ci faccio il personaggio di oggi, o la persona di oggi, che peraltro è lì dietro e sente benissimo quello che io sto dicendo. Cioè, conversavamo amabilmente, sino un secondo fa, poi arrivo qui e dico, ma questo, ma che chiede? Però, sono sicuro che molti di voi si chiedono, insomma, quali siano i confini tra il personaggio e la persona, se così non dovesse essere, cioè avete qualche minuto per abbandonare insomma la sala, perché, insomma, questo sarà più o meno. Io ci provo, io ci provo. Quindi vi chiedo un applauso per Valerio Ruglini. Ciao a tutti. Molto lieto. Stiamo parlando da ora, in realtà, però si fa così. Ciao a tutti. Si fa così, ci si siede, si fa finta che ci siamo incontrando ora per la prima volta, sì, mi devo... No, no, come hai accavallato, giusto? Non lo so, ma mi fanno i gesti quando mi siedo male, mi sono spettinato, c'è tutto un team che si occupa di queste cose. Come stai? Molto bene, molto bene, spero, so anche tu, perché prima hai detto bene. Sì, è vero. Sì, sì, quindi, ce lo siamo già detti. Sì, molte cose. Dai, la prima domanda. Chi sono? Sicuro, così. Guarda, vuoi offrimi del mirto innanzitutto? Se vuoi del mirto questo è nostro, è di noi sardi, si fa col mirtillo. Ok, col mirtillo? Buono, ok. Ed è alcolico, c'è molto zucchero. No, come è alcolico? È la tradizione sarda. Ok. Prevede che ci sia... Ma si inietta? No, è come il latte, lo bevi dalla bocca. Dalla mucca? Sì, sì, sì. E ne hai fatti addirittura tre a testa? Sì. Sono un po' tante. Normalmente la tua tradizione è che io bevo quando tu bevi e viceversa. Ok. Allora... No, lo bevo dopo. Ah, lo bevi dopo però. Sì, sì, lo bevo dopo. Come un alcolista ho sentito l'odore quindi non ho potuto fare a meno. E la tradizione è andata a quel paese. È tutto andato malissimo. Quindi si fa? Si fa? Ah, dai si fa. È buono. Sono in difficoltà. Ok. Ancora un po', dai. Tutto? Ce la fai? No, no. Ok. Quindi. No, poi magari. Allora. Valerio Lundi. Facciamo questa cosa. Questo è il tuo vero nome. Questo è il tuo vero nome? Sì, sì. Ok. Come altro vieni chiamato in genere? No. No. Valerio. Ok. Non c'è quella cosa romana di er qualcosa. Er. Er cipolla. Eh, tipo così. Er cotoletta. Guarda. Er cotoletta. Non è così diffusa come vogliamo far credere. Ok. Questa cosa di dire, oh, è arrivato il Catena, è arrivato il Bruschetta. Cioè, ne conosciamo, io che ho tanti amici anche d'infanzia, c'avevo Er Machina. Er Machina. Che era un nostro amico a cui piacevano le macchine. Da qui. Da lì, dici. Ok. Gli articoli in romanesco gli piacevano. E però lui ha detto chiamatemi Er Machina. Cioè, non è manco una cosa. Abbiamo deciso di chiamarlo Er Machina. Eh, perché in genere tol'ha fibia, no? Perché nessuno dice mi chiamo Er Cipolla. Perché, che, che, cioè. Sì. Enzo Salvi credo che fece un'operazione del genere. Un comico romano. Sì. Che molti lo conoscono come... Mamma mia come sto. Sì, Er Cipolla. Però, vabbè, dai. Non parliamo di Roma. Città di cui si parla fin troppo. Sì, in generale, dici? Parliamo di Sardegna. Eh, ok. Cagliari, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Ci sono stato. Come, bella? Sì. Ok. Possiamo anche continuare, però, a parlare delle città. Cioè, nel senso, io ho molte domande, però... No, fai la terza. Faccio la terza? Sì, sì. Le prime due anni sono state queste, insomma. Allora, no, in realtà tu volevo dire che, volevo raccontare a tutti, come abbiamo già fatto prima, insomma, ci riflettiamo sempre le stesse cose. Che, quando ti ho chiesto di venire qua al mio night, che non ha niente da invidiare a tutti gli altri podcast ai quali tu sei stato presente. Sì. Perché li hai fatti tutti. E ne ho fatti tanti. Ne hai fatti tanti. Infatti io non cerco di... Però non avendo io un podcast, se si uniscono tutti i podcast fatti, c'è un filo conduttore. È come avere un podcast, diciamo. Eh sì, è come averne uno. Cioè, non smettere... Questo è il mio ultimo. Sì. Perché ho raggiunto il numero di partecipazioni tale da fare un piccolo podcast. Ok. Hai raccontato tutto quello che volevi raccontare. La puntata finale è questa. È questa, ok. Sì, sì. Quindi ci sta che io sto overcompensando. Non sto overcompensando, metto un sacco di luci, un sacco di produzione. Non voglio assolutamente farti notare che ci sono molte luci, ci sono molte... Cioè, nel senso, non so se tu l'hai notato che c'è un operatore anche lì che ti sta riprendendo. Non lo notato, che da... Noi in tv, da YouTube non si notano. Non si notano. È più un regalo che fai al pubblico pagante. Ah. D'altro molto pagante ho saputo. Molto pagante? Ma... No, no, però se a voi funziona allora va bene. No, ma nel senso... Cioè, si può sempre fare di meglio questo, vorrei dire. Sì, certo. Cioè, vuoi fermarsi. Con la... Ellie Schlein o quanto... Cioè, le operazioni... No, vabbè, con Ellie Schlein era diverso, nel senso che era una donazione libera perché era una cosa di sinistra. Mentre con te... Ah, no, oggi invece vedo che avete fatto una cosa di destra. È più una cosa di destra. Quindi non si pagava con la Schlein? Come si chiama lei? Si chiama Ellie Schlein. Ah, perché ogni volta cambi la vocale per correggermi. Quindi quando dico Schlein diventa Schlein, quando dico Schlein diventa Schlein. Ma che dipende anche lei, cioè, qualche volta è... Anche lei fa così. È macchina, qualche volta è... Ah, ma lei ha detto chiamatemi Schlein perché mi piacciono i... E fa ridere sta cosa. I suoni delle catane. Esatto, esatto. Sembrano Schlein. Sì, sì, viene proprio da lì. Quando giochi a Fruit Ninja, no? Ti dicono, dov'è il mango? È una roba vecchia. È lì. Schlein. Sì. Funziona così. Si beve l'armi. Bello. E quindi? Qui c'è dell'acqua. Sì, sì. Ok. No, bevo dopo. Quando tu hai iniziato a fare... Ah, no, aspetta, volevo dire una cosa. Perché non vuoi più fare night? Cioè, non vuoi più fare podcast? Nel senso, davvero senti di non avere nulla da dire? Come? Senti davvero di non avere nulla da dire? No, non è che lo sento, è così. È così? Non ho... Infatti, c'è, dimostrazione del fatto che ho detto English Line, hanno applaudito. Cioè, è un senso... Ma sai che questa cosa non è vera? Perché... No, no, è vera, è vera. Io lo sento che ho finito... Cioè... È finito tutto? No, nel senso che nei podcast c'è questa cosa del... No, ma noi parliamo, vedo tranquillo, bevi del mirto. Ma non è che... Cioè, non è che sto stato in carcere o in guerra che diciamo, Valerio Lundini ci racconta... Cioè, faccio una vita più noiosa del... Cioè, no, divertente per alcune cose, ma sono quelle pubbliche. Tipo, faccio delle cose creative, però sono quelle. E per il resto, quando tu dici la persona dietro del personaggio, non è che c'è una differenza tra persona e personaggio. Cioè, è uno che fa delle cose... Ma se mi dici, parlami di un'esperienza incredibile della tua vita, non mi viene in mente... Certo, si fa la domanda così, però... Però c'è gente che invece arriva e parla di... Quando ho conosciuto Tizio, quando mi hanno menato. A me nessuno mi ha menato, non sono mai stato in carcere. Sì, sinora, perché vedo che... Ho preso delle multe, ma... Ok, poco interessante, diciamo. Sì, e quindi, io lo dico, anche per il bene del progetto. Nel senso, vedi se c'è qualcuno che... Non so, Lash Lane è una politica. Secondo me, tu ti nascondi un pochino... Io ho questa impressione, che tu ti nasconda un pochino dietro al comico. Perché io ho notato che le persone più difficili da intervistare sono i politici, perché ovviamente hanno interesse a dirti una cosa, tu gli chiedi un'altra, e loro ti riportano sempre lì. Sì. E i comici, che scherzano continuamente per non dirti le cose che non vogliono dirti. Ma perché i comici e i politici sono la stessa cosa? So... Cioè, io li metterai in Parlamento. Bella questa, eh? Bellissima, bellissima. Questa era molto carina. Questa è comicità quasi sarda. Sì, questa è sarda. Questa è sarda. No, quindi dicevi, i politici e i comici, quindi Lash Lane... Tipo fanno così. Allora fanno lo sketch. Però sia io che Lash Lane suoniamo la pianoforte. Sì, sì, sì. È giocata a Free Ninja. No, io non ci gioco. Non ci giochi? So solo che c'è questa cosa. Te l'hanno raccontata, diciamo. Sì, sì. Ok. Quando... Io ti ho scoperto abbastanza recentemente. Nella mia testa abbastanza recentemente sono tipo cinque anni, perché io vado... Prima che... Prima che tu esistessi. Sì, quindi non è recentemente. Ho avuto una discussione con un amico su WhatsApp che mi ha chiesto che una discussione con un amico su WhatsApp non vuol dire niente. Mi hanno dato i messaggi, mi ha detto ma sto Lundini ci piace? Ah, fate queste domande. Facciamo sta roba. È un amico? È uno dei nostri? Sì, sì, sì. Lo so, l'ho capito. La facciamo anche con gli amici. Ma Luco, questo è un sì? È un no. È una cosa che è un'antipatia incredibile, però... Vabbè, ma non è tipo la bomba o la passi. È giusto che lo facciano anche su di me, eh? No, cioè, è una roba... culturale, diciamo. Si fa. Si fa. Ma Liliana Segre ci piace? Esatto. Cioè, la fai, mandi il messaggio, devo capire. Esatto. Passo? Passo, vediamo. Se fa così. Che poi appena invece scopri che non ti piace... Oh, comunque è un no, eh? Ah, è un no, no, no. Sì, sì, ok, a posto. Ma già l'avevo capito. E quindi che avete detto? Ci siamo chiesti se ci piace. E perché ve lo avete detto? Ci piace? Ma sì, certo. Ah. Hai visto il resto che è? Oddio. Tipo, che ne so, Lillo e Greg, non ne so, quale è il resto? Lillo e Greg, terribili. Eh. No, scherzo. Ehm... No, no, scherzo. È una battuta di autoincensazione simpatica. E quindi sì, all'amico tuo gli ho detto. In realtà all'inizio, secondo me, molti... Molte persone che ti hanno visto inizialmente non capivano se davvero tu ci fossi... O ci facessi. Anche a me inizialmente non era chiaro la tua comicità, devo essere sincero. Cioè io guardavo le cose che facevi e dicevo, boh, ok, è serio in questa cosa oppure... È faceto. È faceto. E sei faceto? Eh, ma dipende, alcune cose... No, Cioè ci sono dei momenti... Ti senti faceto? No, no, ma guarda, la cosa del faceto è anche più una cosa che... Una parola che io uso solo quando devo dire è serio e faceto, ma da solo non l'ha. Non ti capita? Difficile di dire è faceto, dai... Non lo riesci a aprire? Ne, sono un po' debole, però forse con domani ce la faccio. Tieni, usa questo. Sono momenti... E no, sono serio e faceto, cioè non lo so, che dipende, ho fatto varie... non tantissime cose, ma abbastanza da non sapere qual è la linea comune che le identifica come serio facete. Però spesso quando dico una cosa seriamente non capiscono se la penso realmente. Mi fa anche un po' male quando lo fanno i miei amici. Ieri proprio è successo, ho detto ah, questo quartiere è bello di giorno, eh? E il mio amico fa no, non capisco se sei ironico, ma se fossi stato... Ma non è vero, cioè... Che ho fatto? Ho detto no, sono un genio, ho detto che è bello di giorno, in realtà è bello... No, non è bello. Non è bello. Cioè che è... Che intrattenimento ho dato e là ci sono rimasto male. Però no, sono serio. Ok. Però tu sei in realtà perfettamente consapevole del fatto che questa è la base della tua comicità, altrimenti sei un pazzo. che è... Ma no, no. Ma... Cioè, un riverbero strano con un'altra voce. Ci sono vari... C'è un eco, una eco, perché è femminile stranamente. No, sì, dai, fai un'altra domanda, non lo so come si risponde. Non so. Vedi che non posso fare più i podcast. Ok. Mi spieghi come sei finito a fare quello che fai? Ah, così, tipo comorra. Che poi tu non bevi. bevo poco. Bevi poco. E come sono finito, come sono finito. Allora, non l'avrei mai fatto di lavoro scegliendolo. È più una cosa che mi è capitata. Ho visto che c'era la possibilità di farla senza vergognarmi ci. E allora l'ho fatta. Ad esempio, non avrei mai detto voglio fare questo lavoro di scrivere cose comiche. Cioè, in realtà... Tu non dici di essere un comico? Beh, sì, lo faccio. Ah, faccio lo spettacolo e le cose che faccio. le vendi come comiche, certo. Però, nel senso, è brutto dirlo perché se poi non è divertente e diceva questo sarebbe comico, se invece dici attore di teatro, bellissimo, perché diceva vedi, è anche divertente. Infatti, io le prime cose e mi sono dato da solo il gancio per rispondere meglio alla domanda, io facevo da diversi anni o in parallelo tuttora una band con cui suono, nella quale suonavamo e suoniamo brani nostri ma all'epoca soprattutto brani altrui degli anni 60 e tra una canzone e l'altra dicevamo quello che ci pareva finché avevamo scoperto che gli intramezzi tra una canzone e l'altra altrui erano più popolari erano più divertenti però lì non c'era l'aspettativa da parte del pubblico di qualcosa di divertente perché suonavamo nei club a volte ai matrimoni ai locali ai pub e quindi la gente diceva c'è una band che suona se poi eravamo anche simpatici era solo un in più ma se dicevi una cosa tipo tipo i politici mi faceva ridere la gente diceva beh questo giustamente deve suonare però tu sei tipo al matrimonio puoi fare comunque sapete quello è il problema degli ebrei degli ebrei fosse uno il problema no ma chiaro no dicevo tanto mi hai detto tu tagli un sacco di cose dal podcast taglio tutto metto solo le risate della persona no dicevo noi ai matrimoni non scherzavamo mai c'era questa regola non scritta che tutto ciò che era esuberanza ai matrimoni dicono no no perché perché ci pagavano di più dei locali e quindi finché 50 euro la serata poi anche di ragazzate il pubblico è contento ai matrimoni c'era alla fine lo sposo che ti dà questi soldi in nero chissà tanti cioè almeno tanti il boss dei matrimoni cioè che matrimoni erano tanti tanti erano no non lo posso dirlo donna perché mi spiace cioè ammetti che poi la band vuole fare un matrimonio e vuole chiedere di più di quello che dico guarda nel podcast quello diceva diceva che prendete così e quindi comunque stiamo sull'ordine delle diverse centinaia di euro di milioni e quindi vecchie lire diciamo vecchie lire no no suoniamo da quando ci sono gli euro ok e abbiamo scelto proprio quella decisione dell'Unione Europea per avete fatto bene per iniziare a suonare e poi in parallelo scrivevo cose per me fumetti racconti che alcuni venivano pubblicati ma raramente spesso rimanevano così e mi divertiva andare a leggere questi testi alcuni erano poesiole racconti in contesti noiosissimi tipo gare di poetry slam non so se sono esistono le gare comunque poetry slam gente che andava lì e parlava di cose noiosissime e drammatiche però non non sincera posti dove odiavo stare e poi leggevo le mie cose che invece erano incredibilmente divertenti ma solo perché paragonate alla noia di prima e questa cosa mi piaceva perché non è che dicevano ah questo scrive cose brillanti divertenti no era tipo ecco nel altro che ci racconta della madre che lo menava invece a sorpresa sì mia madre mi menava ma facceva ridere era divertente e quindi no un po' mi manca quella concezione che da fuori la gente dice questo non è comico è uno che fa delle cose e poi fa a sorpresa vedi è divertente perché è come quando vedi i film drammatici sugli emigrati i film quelli impegnati poi a un certo punto uno fa una battuta tipo che ne so vedi sto ragazzo povero che fa la fidanzata vedi con questi capelli sembra proprio un pulcino terribile la gente fa ma che è è solo perché il film è talmente in dramma che quella cosa ti ha fatto sorridere succede questa cosa a meno che tu non mi dici qual è il film ormai no ma se vuoi c'è un film questa cosa dell'immigrato e del pulcino è un film che ho visto una volta e proprio mi sono ricordato la reazione del pubblico si chiama proprio così l'immigrato e il pulcino non me lo ricordo come si chiamava era un film di quelli che di quelli che non beh tanto sugli emigrati alla fine cattifragge no però non ho capito come sei arrivato a fare quello che fai ah no che poi a un certo punto la musica va bene però non è che la gente si sposava così tanto e poi che cosa è successo ho scritto scrivevo cose per la radio ho scritto cose per Radio 2 e poi facevo quelle cose che facevo in cui leggevo i racconti in pubblico le ho un po' ampliate fino a farle diventare uno spettacolo intero in un certo punto ho tolto il leggio e ho detto adesso posso adesso sono un bambino grande e poi vabbè ho fatto varie cose in televisione poi dopo ho fatto un programma tipo come sei arrivato a fare cose in televisione qualcuno ti avrà detto lundini sei bravo mi mangio un tipo un tipo che fa lundini una volta ho allora ho fatto da autore a un programma con Ninoflassica che si chiamava Dopo Fiction ma era proprio la prima cosa che facevo da autore in Rai gli altri erano molto più grandi di me quindi io pensavo di essere quello che non dicevo niente perché avevo paura che ogni cosa che avevo in mente non si potrà fare perché pensavi sempre che la tv sia una cosa dei grandi degli altri e infatti avevo proposto una cosa la fecero malissimo tipo? ma non per colpa di Frassica ma per colpa del fatto che io avevo in mente era una cosa basata sulle fiction si chiamava Dopo Fiction e avevo detto facciamo degli sketch in cui si combinano varie fiction italiane quindi era il periodo che c'erano i medici e ho detto facciamo un medici in famiglia e c'era questa cosa in cui c'era una famiglia di persone e uno di loro era Lorenzo dei Medici quindi che questi mangiano questo riva fuori la spada poi non so neanche chi fossero i medici non ho mai studiato quindi ho mai visto la fiction quindi ho detto immagino c'era una spada certo e nella mia testa c'era anche in mente il cast ho detto la mamma la potrebbe fare quello il padre lo potrebbe fare quello Lorenzo dei Medici lo potrebbe fare quell'altro però non avevo la sicurezza di me stesso di dire allora c'ho anche in mente gli attori e quindi ho detto no no fate voi una roba agghiacciante recitata malissimo girata male ci sono stato proprio male cioè esiste questa cosa online posso cercarla posso trovarla non credo non è sul replay non credo è un peccato però poi là ho capito e poi ho fatto altre cose e poi nel feci questo programma dove c'erano tante persone che si chiamava battute di Giovanni Benincasa dove io stavo tra gli autori ma banalmente scrivevo solo le cose mie quindi non cioè autori ma pure gli altri erano autori di se stessi io c'avevo quel punto in sia in più che comunque ma perché tu eri l'unico peraltro con la tastiera mi ricordo bene sì sì quella forse è la tastiera che ti dava l'autore e poi c'è stato il covid un dramma per tante persone ma non per me perché visto che c'erano pochi soldi per fare programmi con tante persone diciamo facciamo con una persona sola ed ero io e quindi io diciamo che dal covid ci ho guadagnato insomma ok hai fatto bene io e Dio Dato siamo quelli che proprio che proprio sì è vero sì sì infatti io quando penso al covid penso a voi due in generale sì 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 come cosa facevi esattamente in Rai perché io so che qua è pieno di questi questi sono tutti comici che vorrebbero un giorno seguire le tue orme no ma che sì 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 è così vero ditelo 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 un po' più forte grande grazie non sono pagati pagati poi da chi infatti chi è che c'ha questo investimento voglio far credere a Lundini che ci sia della gente che seguire le tue orme mi do 20 euro a testa vabbè esatto col costo del biglietto comunque cioè paghiamo un sacco di roba comunque guarda le luci non so se hai visto ho visto che siete tantissimi abbiamo moltissima roba cioè di tutti i tipi io pensavo vedendolo da internet pensavo che è di te e dei cellulari e il pubblico invece ho visto ci stanno delle persone allora è tutto un po' finto nel senso che le persone arrivano hanno pagato 20 euro e quindi dicono ma nel senso questa spesa è giustificata allora io metto dei figuranti con delle grandi macchine macchine da presa e mi dicevi la domanda aspetta la domanda è quindi tu facevi l'autore sì cosa facevi cioè letteralmente cioè scrivevi adesso Frassica dice no allora io con Frassica avevo lavorato nel programma radiofonico che faceva su Radio 2 che si chiamava Programmone molto bello dove scrivo le lui mi aveva chiamato perché aveva visto delle cose mie su internet dei video che all'epoca avevano 100 visualizzazioni lui li ha visti a caso lui li vedeva gli piacevano ma lui si forma molto ok la ravista ha detto vieni in radio con me e io subito maestro e sono andato mi sono divertito molto ci siamo trovati bene lui andò a fare un programma in Rai e ha detto voglio fare questo programma vieni a fare l'autore io certo e che facevo scrivevo delle cose per lui ma lui comunque non si può fare l'autore a Nino Frassica perché è talmente bravo a improvvisare cose che non è che scrivi adesso Frassica dice cerco di immaginare il lavoro dell'autore no considera che nessun autore scrive niente ah gli autori fanno finta come in Boris no Boris fanno qualcosa cioè i personaggi che interpretano gli autori in Boris interpretano degli autori che comunque sono solerti perché comunque li vedi sempre che fanno F4 delle cose io ho visto un sacco di autori che non fanno niente ed è il mio sogno fare quello come darti torti cioè stanno lì autore autore ok non è una categoria che cioè ci stanno quelli bravi ma poi diventano diventano autori di se stessi tipo io stavo tipo te ah quindi ok e tu e tu come facevi a non fare abbastanza da essere finito ad avere un programma tuo nel senso la gente faceva questo non fa un cazzo manco quello ma quello no no aspetta no io ero molto 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 bravo tu eri molto bravo ok poi cosa è successo cioè nel e poi c'è stato c'è stato un calo diciamo normale pure cioè tutti no come Pappalardo ho fatto ricominciamo e poi piano piano sì sì no no comunque no sugli autori boh non lo so vabbè facevo l'autore per questo programma non mi ricordo era sette anni fa sei anni fa sì sette era davvero così tanto tempo fa sei ah ok dai cinque non ne parliamo più ma sì dai dai quando mi hai scoperto ci sta quando ti ho scoperto e mi chiediamo ma sto lundini ci piace facetto o non facetto sì ma il tuo amico poi che ha detto sta capendo non ricordo non ricordo allora devo dire che anche io inizialmente faticavo ma perché faticavi no vabbè non sono particolarmente brillante se no non avrei giornalice nel senso fai altro se sei brillante invece se allora fai ah ma quindi ok capito quindi piacciono i brillanti sai che me lo chiedo un po' questo perché io non ho mai riempito un teatro velocemente così come ho fatto con te cioè mi chiedo un po' perché prima hai fatto l'ashlane poi a chi è l'applausi è un applauso a loro stessi che sono brillanti siete i migliori mica come quelli dell'altre puntate che c'erano qui per l'ishline quelli erano terribili sono andati male i pinguini tattici sono andati no no abbiamo riempito sempre però tu hai riempito più veloce cioè cioè proprio l'undini chissà cosa dice l'undini da shy porca miseria e quindi lo potevo fare da solo incassavo tutto io eh eh sì però cioè dovresti nel senso belli gli altri podcast che hai fatto però questo è un po' meglio eh infatti questo è quello di chiusura no questo è il migliore anche perché c'è questo importante non che io mi senta meno degli altri quindi avrei bisogno di compensare non l'ho mai detta perché non non c'è questa cosa ma tu che io quella luce è molto grande non c'è la cashmere non c'è la cosa no ma guarda non c'è nessuno di cashmere qui in sala quindi parla proprio tranquillamente no no ma infatti lo so lo so non so neanche cos'è la mi sono trovato molto male vero eh lo so per non parlare degli altri anzi devo dire che un po' mi offendo quando c'è questo running joke che c'è tipo in altri tipo c'è un altro podcast quello che si chiama luogo dove si lavano i vestiti adesso sono un milione del nome ah lavanderia 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 con lavandone sì sì lavandino e ogni volta c'è sta cosa cashmere muschio e non vengo mai citato capito e quindi bam arriva un nuovo cameraman arriva una nuova cosa ma non lo faccio per quello no ma non ti preoccupare non è per quello è vero è vero cioè non aggiungerei mai altre cose tecniche o è così è così due ore dura sta cosa sì questo dura molto però andiamo un po' c'è un blocchetto fammi anche una che hai fatto a Lashlane che non gliel'hai fatta a un certo punto tipo ma ma tu che belva ti senti ah beh la belva più pericolosa di tutte l'essere umano beh molto profondo ti è piaciuto? un applauso un applauso è rimasto quello al centro quello avvelenato era una gag sì simpatico dovresti bere l'acquase la tradizione in Sardegna no ma lo faccio dopo quando nessuno se lo aspetta capito? ok e quindi belva l'abbiamo detta belva l'abbiamo detto torniamo al mio amico sì andiamo avanti a fatica ma ce la faremo tanto qua abbiamo ore e ore non è che c'è un punto più del teatro io ho capito la tua comicità quando ho visto Saviano da te perché ho inizialmente vedevo gli spezzi io ovviamente non ho mai visto una tua trasmissione integralmente perché non guardo la televisione tu guardi la televisione? non tanto più come come prima ma no non tantissimo però qualcosa sì tipo quindi la maggior parte delle cose che ho visto erano online gli spezzoni faccio ah sto londini e poi ho visto Saviano l'intervista a Saviano e quindi ho naturalmente pensato che fosse un'intervista normale non che fosse un comico ah ok e quando gli hai chiesto dove abita ho capito che qualcosa non andava cioè ho avuto questa intuizione ora e peraltro via Scimone 21 ok allora sì Saviano no Saviano mi è piaciuto ospitarlo però perché già avevo pensato a quelle stesse domande anni e anni prima cioè un giorno parlerò con Saviano e gli chiederò dove abita sì tant'è che io volevo fare uno sketch molto prima a Budget Zero in cui un mio amico che somiglia molto a Saviano interpretava Saviano ok e la cosa doveva essere una cosa che poi parafrasandola è un po' grosso modo parte dell'intervista e poi alla fine non l'ho mai fatto e ho detto ah vabbè ma chiamiamo Saviano veramente però io so sempre dell'ottica ma a te pare che viene Saviano e invece è venuto ok è stato molto molto gentile e hanno fatto tutta la tu hai mai ospitato Saviano qua? no purtroppo no farei un appello se lo vuoi fare tu direttamente verso una delle tantissime videocamere presenti da Alessandro non ti sparano no e no e quindi c'era questa cosa che io un po' mi sentivo in colpa cioè no non lui non qualcuno chiedo qualcuno sì è ovvio c'è sempre c'è sempre quello lì però vabbè e quindi no è stata divertente più che altro perché pensa se avessi fatto quello sketch con l'amico mio che faceva Saviano e poi non avrei più potuto fare alcune delle cose che ho scritto nella sua intervista perché me le avevo bruciate con sta schifezza che avevo fatto a casa ok quindi non fate in attesa di farlo meglio esatto sì questo è un'ottima sì quindi tu cioè hai detto a Saviano a un certo punto io ti dico questa cosa tu ci ho fatto una chiacchiera via zoom ok e ma questo lo facevo con molti ospiti cioè gli dicevo guarda pensavo di che ho detto questo questo quest'altro poi molte cose le cambiavo all'ultimo perché o me le dimenticavo oppure mi venivano in mente e e questo quindi con Saviano tu hai capito io lì ho capito cioè quindi se io non facevo venire Saviano io ancora direi ma questo cioè ma quindi ci sono arrivati gli zombie a un certo punto eh e hanno attaccato c'è una puntata del programma in cui c'è un attacco zombie in studio e con Cruciani e Parenzo in cui ci sta Parenzo e Cruciani e e che ho letto un commento non so su quale se su youtube o su tiktok dice ma non ho capito se questa cosa è vera vabbè lì ok potenzialmente potevo essere io però c'è stato lo sketch con Saviano che mi ha un attimo cioè tu prima dello sketch con Saviano hai detto ho saputo di un attacco zombie a Roma durante un programma me lo abbiamo fatto ovviamente la cosa è rinasta circoscritta a quella cosa là esatto sì 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 no ma il non ho capito se è vero o falso l'ho letto come commento più volte in situazioni non so proprio un demone che compare dietro lo studio e la gente ma non ho capito è una sceneggiata o ok sai qual è secondo me la questione è che ti chiedo come sei arrivato a fare quello che fa in Rai perché c'è un po' l'idea che un certo tipo di comicità in Rai non si possa portare peraltro tu su Rai 2 che è la più Rai delle Rai ah sì certo se che sì e in base a che? è quella più di destra ah è quella più di destra e ti sei dato la risposta amico mio diciamo che no il fatto che sia di destra ha aiutato ha aiutato ok perché comunque ho detto qualche parola magica e mi si sono aperte delle porte ok però no il fatto della destra no vabbè devo ringraziare Giovanni Benincasa che è un autore dei pochi con pollice in su ma non lo dico perché è mio amico perché ci lavoro perché è uno che ha delle buone intuizioni e e lui ha detto è stato lui a dire ma proponiamo un programma tuo programma di Valerio Lundini io ho detto ma sei sicuro che gliene frega qualcosa cioè perché non è che non è che non è che dici sai Massimo Boldi ti conoscono tutti infatti c'è un programma adesso con Massimo Boldi su Rai 1 e ho detto il mio no vabbè facciamolo doveva andare in onda d'estate quando la tv non viene vista da nessuno e quindi l'abbiamo girato d'estate e poi a un certo punto a una settimana dalla messa in onda no non va più in onda va in onda a settembre e a me è un po' dispiacere perché io lo volevo vedere però dice no guarda è meglio a settembre perché lo vedono più persone e e quindi la destra che c'è no la destra non c'entra niente non è che tutto ciò che sta su su Rai 2 è di destra penso se così fosse la comincio a guardare con attenzione tipo ogni volta che vedo una testa mi dice ma questa è di destra no a parte me e Emanuele Afanelli non c'è nessuno di destra no 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 cioè ci sarà qualcuno che simpatizza insomma in Italia chi di noi certo un po' così un po' per però è più di destra e scusa invece Rai 3 è di sinistra beh è ma la stessa azienda che fanno no vabbè ma è un gioco delle parti capito è tutta una roba ma no ma a me no no comunque non è che non è cioè ci stanno tante cose divertenti in tv no in passato ah ok sì sì cioè secondo me la cosa del non so se tu l'hai detto con con fare lusinghiero la cosa del cose così non si sono mai viste in tv a me piace molto se ti piace era lusinghiero cioè nel senso ci sono state tante cose divertenti in tv secondo me ce ne sono ma è tre tre del passato no tre in generale anche del futuro e ti dico che ne so il pippo kennedy show cosa il pippo kennedy show programma non ho idea di cosa si sabina guzzanti corrado guzzanti ok segna tandini e avanzi dello stesso dello stesso team c'era c'è stanno tanti indietro tutta i vari i vari programmi di qualcosa che disoccupati con 2k con sabrina impacciatore lo che qualcosa negli ultimi 15 anni la pezza di lundini ok cosa quello dell'appartamento che scivola quello con le persone tendenzialmente partenopei che cadono breaking bad no breaking bad però simile better cold soul better cold soul no comunque no ci stanno quindi semplicemente non lo so boh facciamo che sono stato fortunato ok non lo so perché mi chiedo ogni volta che i comici italiani parlano di loro stessi lo fanno con una piageria enorme nei confronti di tutti gli altri comici ah vabbè ma quello qualunque lavoro vero perché non puoi dire quello mi fa schifo cioè ma non è cioè non è che non lo dico per convenienza non lo dico perché sarebbe antipatico cioè se mi stai antipatico così cioè se non mi piace quello che fai direi mi fasi schifo solo se mi stai anche proprio tanto antipatico perché no dico il contrario tipo una roba non mi fa ridere però dico ah sto qui è un genio tipo a me frassica non mi fa ridere non ti piace io lo inviterei volentieri perché avrebbe un sacco di cose da dire però la sua comicità io non la capisco ah ok però vabbè a quanto pare io non sono un genio sul capire la comicità ma non è che devi o un'intervista a Saviano no io non ci arrivo no a lui gli manca effettivamente a lui manca questo aver intervistato Saviano che è il mio comico preferito tra l'altro no e quindi l'aspetta mi sono perso e quindi noto che invece c'è spesso ah genio ah genio no no genio beh si dice genio ma è come di divertente bravo cioè non è che dici che Einstein fa una cosa sotto commenti genio cioè lo dici quando una cosa ti fa ridere almeno lo noto lo noto scritto sui social quando una cosa è divertente ok cioè vedi un video di uno che si mangia un ananas in terra genio però non è che è un genio è divertente esilarante qual è il tuo preferito il tuo comico preferito e oddio il preferito non lo so però diciamo Renato Pozzetto Renato Pozzetto ok vado su visto che siamo a Milano magari è qui sì 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 anzi vorrei salutare Renato lì in quarta fila e anche Cochi Cochi è l'unica persona che mi ci sono avvicinato più volte facendo posso stringerle la mano varie volte ho cambiato tipo tre volte però ok ogni volta hai fatto questa scena lui non ti riconosceva ovviamente no 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 ti avvicinavi in questo modo un po' però l'ho fatto una volta a Roma e le ultime volte l'ho incontrato qua a Milano ma anche perché sono anziani e quindi è una cosa brutta da dire però pensi andiamolo a salutare ok no nel senso metti che è l'ultimo a persona un applauso agli anziani che sono l'architrave di questo paese no io non posso più sono ubriachissima proprio ne ho bevuti insieme ne farei uno queste parti quale dargli spero questo è tutto tagliato questo serve per riscaldarsi perché appunto io ti ho visto alla lavanderia e tu dicevi appunto ci vuole la parte in cui ci si scalda e poi questa è tutta la parte in cui ci si scalda dopo ti faccio le domande quelle politiche più diciamo peraltro impossibile che tu in Rai non ti sia accorto si dice spesso che in Rai la Rai è lottizzata no e quindi ci sono delle influenze politiche si dice io non lo so ma il fatto è che quello che facevo io andava in onda talmente tardi che non è che a un certo punto qua c'è un'influenza politica ah dici qua si stacca a mezzanotte che che succede? beh non può essere vera questa cosa eh ma io ti giuro non ha cioè io non l'ho percepita ok nel senso è comunque un programma breve cioè non è che non lo so no non è più cioè credo che ci sia l'influenza politica tipo a porta a porta che se a un certo punto Vespa dice adesso parliamo del mitico occhetto solo di lui e in un certo punto arriva qualcuno fa eh però ok non lo so ho detto il nome di un politico anche recente si vede che ti tieni a giornata e quindi no nel senso quello che facevo io la lottizzazione non c'è mai stata almeno non me ne so mai accorto poi comunque ho sempre cercato di essere il più filo governativo possibile quindi non si non si scherza su non c'ho mai non c'ho mai avuto problemi di censure ma poi non ti hanno mai detto niente per nessuna battuta nessuna cosa no sono io che ho mi sono autocensurato per un paio di idee che mi erano nute ma non perché fossero troppo strane ma perché avevo paura che fossero difficili da capire quindi se il tuo amico simpaticissimo su whatsapp vedeva quelle e non le capiva un conto è non capire una cosa assurda surreale un conto è non capire alcune cose che rischiano solo di veicolare un messaggio che può sembrare sbagliato quindi mi sono io ho cercato di non realizzare delle idee che avevo che erano divertenti ma che magari avevano troppi livelli di lettura che non posso pretendere da uno che giustamente sta facendo zapping vede quella cosa e fa assurdo che cos'è quindi no le censure me le sono autoimposte mi ricordo che l'unica cosa c'era uno sketch una situazione in cui mostravo foto di vari santi italiani ok ma non era niente di esilarano era una cosa non mi ricordo che dovevo fare chiedevo i nomi dei santi nello specifico a un ospite e quella fu l'unica cosa in cui mi hanno detto però sta cosa perché c'erano i santi c'erano i santi ma non è che dicevo sto santo è un pedofilo ok mi facevo vedere cioè e lì ma non è successo nulla però era tipo speriamo che questa cosa ce la passino ma non era niente ma chi ce la passino ma che ne so ma non si sa manco cioè c'era Roberta Bellagamba che saluto che era è lì nel pubblico sta lì vicino a Renato lei lavorava con noi per la Rai cioè lei era la persona che veniva a vedere il programma e diceva ok e non ci ha mai detto non ok mi piaceva tutto anzi secondo me si è pure scordata un paio di cose mi ho fatto notare io che in uno sketch io dicevo non io un'altra persona diceva il nome di una marca di caramelle ma proprio placidamente diceva Legolia mi piacciono Legolia e dopo che l'abbiamo montata io stavo al montaggio con lei abbiamo finito di montare la montata l'abbiamo mandata alla Rai che poi la manda in onda e io solo quando ero sicuro che non si sarebbe toccato ho detto comunque lui ha detto Golia e lei fa no io ho fatto il nome e cognome di questa persona che adesso è agli arresti e adesso verrà lasciata dalla Rai hai fatto bene no perché c'è stato un incremento delle vendite di queste caramelle ah ok grazie a noi è per colpa sua ok mi pare il nome di Roberta Bellagamba eh sì però mi parlo con una cosa in diretta comunque così fai vedere che non hai tagliato possiamo comunque scriverlo campiona io che dico Mario Rossi Mario Rossi tu metti questo audio quando io dico Roberta Bellagamba anche adesso ho detto Mario Rossi ok quindi devo stare attento ma poi sotto nella trascrizione possiamo comunque mettere puoi scrivere Roberta Bellagamba tranquillamente io posso scrivere sì sì tanto i dirigenti Rai sentono i podcast non guardano non li guardano ok va bene è così ah l'acqua io non ce l'ho ah questa qua no sì sì è molto sì buonissima buonissima eh sì metto qua perché immagino sei un tuo sponsor eh sì 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 infatti sì fai già il gesto l'egolia perché cioè perché qua 20 euro a testa non è che non è che ci paghi tutta star le luci non so se hai notato le luci no sì l'ho vista eh cioè molto c'è stato molto impegno ora io non è che i e un paio di o allora sto cercando di farlo notare in maniera sottile perché io non vorrei eh mostrare un eccessivo che poi queste costano un sacco di soldi queste costano costano un sacco perché una volta io quasi non le avevo viste queste luci blu no queste costano un sacco di soldi perché abbiamo suonato col mio complessino tempo fa in un posto e Andrea il cantante del gruppo ha preso una di queste e ha detto no vabbè voglio troppo fare guerre stellari e cominciare a fare così è arrivato un ragazzo fa quelli da costano duemila euro ma io ho detto così è così un po' un po' imbarazzato perché ha pensato questi sortisti magari ah ok non sanno il valore delle cose eh sì e quindi ogni volta che le vedo faccio un po' il conto faccio chissà quanti matrimoni devi fare eh sì almeno un matrimonio però ce lo devi fare perché per arrivare lo sposo diciamo che con uno ci compi la pianta per ok penso e poi non so se erano duemila euro ricordo solo la scenetta di guerre stellari e l'appunto di questo ragazzo ma io non lo so perché io non mostrerei mai delle attrezzature per far vedere che ci mettiamo molto impegno è tutto contenuto il mio chissà se ma cosa non dimmi chissà se incrementa in qualche modo il successo del night cioè nel senso se la gente lo vede più volentieri perché ci stanno secondo me sì beh sì 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 ok secondo me sì siamo d'accordo ma sei sempre stato così tu così come? quando eri ragazzino sì eri quello che faceva ridere o che voleva far ridere ma ma allora io sto con me prima un ragazzo mi ha chiesto una cosa io ho risposto analogamente cioè io sto con me stesso 24 ore su 24 quindi non mi so giudicare perché vedo luci e ombre come tutte no? cioè senza le luci e senza le ombre cioè nel senso sì da bambino ma sono sempre stato attornato circondato da persone simili a me quindi non ho mai pensato di essere quello quello simpatico quello timido quello strano quello cioè eravamo eravamo da tuttora i miei amici sono li ritengo molto simili a me ma credo anche tu hai degli amici che sono comunque associabili al tuo carattere quindi sì sicuramente non ero quello simpatico della classe ma ero tra quelli simpatici della classe ok simpatici poi cioè dici nel senso magari non è che stavo simpatico a tutti però da alcuni oggi no recentemente ho incontrato una mia amica delle elementari che mi ha detto no perché te alle elementari a me mi facevi troppo ridere gli altri non te capivano assolutamente non vero mi capivano tutti benissimo e lei ha voluto fare il fenomeno io ci vedevo lungo cioè poi per far vedere che ci vedeva lungo lei mi ha dovuto screditare a me è diventato un sociopatico io ero un bambino di successo ok arrivata a lei mi ha dovuto far sentire quello capito mi capiva solo lei è arrivata centralinista magari ci stava provando potrebbe essere magari ci stava provando è troppo tardi amica mia vero ti sei persa il me delle elementari il meglio quando eri all'apice diciamo è certo perché era un po' pre-covid quello io sì le elementari le ho fatte appena prima del covid ok ricordo c'era Diodato che era la colonna sonora dei miei viaggi bello bellissimo fai rumore grande Diodato che è lì peraltro sì sì l'ho visto gli indico sempre lo stesso punto stanno tutti a fianco i vip eh sì vabbè e quindi ad esempio io guardo intercontinuto io so che ti faccio molte domande perché tu sei l'ospite no no falle falle quindi nel senso non ti imbarazzare io a domanda rispondo ok a un certo punto tu sei in auto ti avvicini a una signora lo sketch finisce con te che urli va bene lo stesso ah ah ok non è uno sketch è una roba un video tu non ti imbarazzi nel fare quella roba là cioè ti viene naturale diciamo mi imbarazzere è un po' diciamo il motivo per cui ho fatto quella cosa è che quando non dico quando vince una squadra quando vince la Roma a Roma non esistono leggi ok quindi io non seguo il calcio e ho sempre trovato altamente ingiusto che quando una squadra che sia l'Italia durante i mondiali o la Roma durante le partite vince sia lecito urlare e suonare il clacson di notte quindi l'attore era una protesta non era una protesta era visto che c'è l'anarchia ok anche io spacco una vetrina e prendo un televisore ci sta cioè io ho sempre pensato ma se io un giorno una notte comincio alle 23 quindi una sera alle 23.30 a suonare il clacson e girare il centro di Roma mi ferma la polizia e se io dicessi Emma ha appena vinto un concorrente la Pellegrini ha appena vinto la Pellegrini in una gara che è palla a volo che fa? attività fisica ha vinto la Pellegrini il suo sport ha dato così quello mi manda in carcere se invece la Roma ha vinto una partita va bene io passo la Roma cioè anzi non mi ferma proprio è normale va bene ma è strano ah e tu volevi sottolineare no io ho detto visto che lo posso fare suono il clacson e e poi mi affianco alle macchine e visto cioè non è che dicono questo è pazzo perché loro so come me in quel momento sai cosa è la questione io l'altro giorno ero sei mai stato in una rissa? sì hai mai picchiato così perché stavano menandosi? sì no se ero nella rissa è perché cioè ero uno dei partecipanti non ero un passante beh certo ah vabbè noi di destra siamo sempre dalla parte eh ok ok è la no comunque semplicemente c'era talmente tanta gente che suonava il clacson che ho detto vabbè lo faccio anch'io perché comunque io mentre lo faccio mi sento che sto facendo qualcosa di strano cioè io dico ma io sto suonando il clacson e lo posso fare ok una volta ricordo che andai a lavorare da Castorama primo anno di università andai con una mia amica andiamo a lavorare da Castorama ma che? non so che è è un posto che vendono maioliche cioè hanno dato due giorni vendono maioliche cose della quei posti dovevai da bambino quando i due genitori devono cambiare a casa e t'annoi ok e siamo andati lì perché così almeno guadagniamo qualche soldo e siamo andati a fare questa cosa e lì un po' è stata la mia prima esperienza lavorativa della mia vita e andai lì e a un certo punto mi hanno messo in un magazzino mi hanno dato delle scatole cioè queste sono mattonelle se vedi che nella scatola c'è una mattonella rotta vuol dire che è un lotto danneggiato puoi buttarlo ok e quindi mi hanno messo da solo in un hangar a spaccare maioliche e io non pensavo cioè non era giusto che io venissi pagato per una cosa del genere io ho passato un pomeriggio a spaccare cose e mentre lo facevo dicevo io posso fare questa cosa cioè non esiste adesso io ho uno con i baffi la cavatta cosa fa lei cioè io faccio guardi me l'ha detto un capo uno che penso mi comandi e quindi quella volta io ho sentito che poter fare una cosa che normalmente ti verrebbe vietata da un maestro un papà una figura adulta è divertente quindi se urlano e fanno il clacson perché la partita ha vinto io divento della squadra che ha vinto ok ci sta cioè se io quest'anno vince il Napoli il mondiale tu ovviamente fai la stessa cosa vado a Napoli ma in napoletano in napoletano e sicuramente che è divertente e comincia a suonare il clacson a un certo punto senza motivo la gente fa e che cosa ah già la partita perché se no sarebbe fuori dal mondo esatto e questo te lo chiedo perché io proverei un enorme imbarazzo io normalmente non mi imbarazzo non provo che mi vergogno non sono timido però a fare una roba del genere è in qualche modo ipotizzare che la persona con cui sto parlando sia stupida o che possa pensare che io ritengo che è stupida mi metto in imbarazzo piccolo esempio ma io non pensavo che lei fosse stupida no no però nel senso l'altro giorno ero a cena con un amico non lo stesso amico però siamo tutti un po' perché l'hai detto tutti gli amici sono un po' simili quindi non ci arriviamo e niente lui si è mangiato la roba è arrivata la cameriera a portare via le cose e lui le ha detto seriamente a me non è mai arrivato quello che ho ordinato la cotoletta non mi ricordo vabbè sì era evidentemente una battuta non divertentissima e io mi sono sentito un sacco di imbarazzo nel momento in cui la tizia cioè in quei 4 secondi in cui la tizia non capiva cosa stesse succedendo poi ci sono state tutte le cose ah 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 certo l'ho noto guarda quella è anche un po' una pretesa che molte persone hanno cioè c'è sempre questa cosa che se tu scherzi e l'altro non capisce uno pensa ah questo non ha capito quindi è meno intelligente in realtà non è che uno è tenuto a capire che tu stai scherzando ok cioè se io dico non è arrivata la cioè uno dei miei più cari amici si chiama Francesco e quando mi si presentò disse Tony Antonio ho detto Tony quindi ho pensato si chiamasse Antonio non è che ho detto ah è uno scherzo cioè che scherzo è ok poi mesi dopo ho detto senti Antonio lui tutto serio ma mi chiamo Francesco io sapevo che ti chiamavi Antonio ah scherzavo cioè che è sono stupido io cioè non è che mi hai detto mi chiamo Pelle di Daino diceva vabbè non credo che si chiami come un materiale così e Francesco però tipo tu che gridi alla signora abbiamo vinto di poco però però quello non è uno scherzo è una domanda vera ah è una cosa cioè io chiedevo non sapevo che era successo sapevo che aveva vinto la Roma perché era palese ma volevo sapere che cosa che punteggio fosse eccetera comunque pensa questo video l'hanno visto un sacco di persone e per molte persone che sono quello di quel video e non l'artista polietrico che hai invitato stasera è un peccato è un peccato però è comunque la seconda cosa più importante che ci sia in Italia che hai fatto quel video no ma io ho fatto quest'anno ero al vicino vicino Genova fanno un festival musicale ogni anno Eurovision Sanremo e lì c'è questa c'è questa gara a chi si fa più foto con le persone tra tutte le persone che stanno là quindi è tutta farmi fare la foto eccetera a un certo punto io passo di fronte a una schiera di signore anziane che mi dicono per farmi piacere una frase di quel video come se fosse vedi Paul McCartney e gli fai yesterday e queste appare non è che avevano visto il video peggio loro giustamente non sapevano chi fossi ma dietro uno gli ha fatto questo è quello che dice va bene lo stesso col clacson allora loro per farmi felice mi hanno detto questa frase chiaro e che è terribile ci succede molto questa cosa? ogni tanto sì ok è terribile? ma che è terribile è che in generale io non sono mai stato un fan dei tormentoni ho sempre pensato ma chi fa i tormentoni che cosa ne trai a ripetere sempre la stessa cosa perché poi c'è il rischio che quella cosa non piace più a nessuno e tu ti trovi e dici oddio adesso però è un periodo storico in cui i tormentoni non li fa quasi più nessuno ma è il pubblico che te li impone che tu li faccia quindi tu dici una volta che ne so caspita e la gente le comincia a dire questo è quello che dice caspita lui dice sempre caspita lui ha fatto così lui dice solo caspita lui dice soltanto questa parola di tre sillabe poi vengono te e mi dici caspita e te l'hai detto una volta sola l'hai detto una volta sola io all'inizio della mia lunghissima carriera si parla degli anni 80 la facevo questa cosa cioè ripetevo sempre la stessa frase tipo alla fine non dico neanche cos'è ma tanto lo so e la gente iniziava a venire a chiedermi cioè ma tu dimmi questa cosa ma perché vogliono che lo dici cioè nel senso io capisco che ti riconoscano per una cosa cioè se uno dice c'era quel il comico mamma mia come sto e tu lo vedi vedi c'è il comico dai quello che fa ah ho capito quello con la farina ok ma non è che poi vado a lui scusa potresti ridirlo perché però per mia zia concetta tipo ma poi cioè perché cioè la cosa la mia domanda è però se lo fai te se è antipatico potresti dire ma perché lo devi ridire non perché non vada detto ma che ne trai perché sei quello perché tu vieni ridotto sembra che non lo sa fare un altro capito ok cioè però per dire un conto è farmi un silvan mi fa un trucco con le carte vabbè lo sa fare solo lui anche Piera lo sa fare solo lui io non l'ho fatto bene prima però altre frasi non hanno senso a me piace molto Christian De Sica sì anche a me a me però non ironicamente a me niente piace ironicamente mi piace le cose veramente nulla nulla no non credo nel nel piacere ironicamente nell'ironia no credo nell'ironia ma se una cosa ti piace cioè le cose che non ti piacciono non ti piacciono se una cosa ti piace non è che ti piace ironicamente ti piace se no 20 euro per sentire questa frase no vabbè nel senso che si vale non per anche per tutta la cosa le luci le luci quindi Christian De Sica quindi Christian De Sica rimaniamo su rimaniamo focalizzati ha fatto un sacco di cose che a me fanno ridere mi piacciono mi piacciono eccetera però condivido questa mia passione con mio fratello che peraltro è in sala quindi è davvero in sala quindi indico da un'altra parte per dimostrare ci sta mio fratello che adesso diventerà quello che ama Christian De Sica tu sei quello a cui piace Christian De Sica tantissimo sì sono il fratello di Caspita e noi abbiamo una una passione e ogni volta che ne parliamo facciamo sempre la stessa scenetta quindi alla fine però non andrei da lui a dire qual è? eh no non voglio farla perché è volgare c'è lui che va che canta Brigitte con la roba lì bellissimo a me fa molto ridere mi fa molto ridere perché agli altri non faccia ridere ah vabbè però quindi evidentemente la faccio anche io questa cosa si prendono i personaggi e vengono distillati nella loro essenza sì ma non è che dici mi fai Brigitte Bardot no quello non lo farei credo a meno che non fossi veramente ubriaco e in condizioni sì sì capisci? tu capisci bene sì 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 ho capito bevo questo ora ce lo chiederà ora chiederà De Sica ma tu non vuoi bere quando bevo io eh ma tu hai detto che basta abbiamo una tradizione che non si cambia neanche col fuoco eh sono un'ipocrita però hai fatto che lo voglio bere cioè tu non vuoi bere no per me è troppo ok no vabbè ma che tu che belva ti senti l'ho detto prima ti sembra quella di prima? l'essere umano ok non conosco così bene gli animali da identificarmi con uno questo è un po' un problema per quel programma se mi dovesse invitare gli direi guarda saltiamola questa mi faresti così? anche se è proprio è proprio la gente le farà ma tu che belva sei mentre passa sì sicuro e lei ogni volta eh è il gatto il gatto vabbè si è inventata questa cosa dai carina l'hai mai conosciuta? sì ok la chiedi di venire al night? non la conosco così bene da cioè l'ho conosciuta l'ho conosciuta il giorno del primo morto di covid in Italia ero a una cena c'era lei e si parlava ma questo covid ma chissà si attecchiva mai in Italia e in quel momento arriva la notizia del primo morto che e lei stava là quindi la ricordo associo a lei a un ricordo di morte ok come Dio dato del resto come Dio dato come Dio dato chissà se lei si ricorda ha fatto anche cose buone l'ho conosciuto il giorno del primo morto di covid parlando di cioè se gli chiedono a te quel ragazzo che urla in macchina col clacson lo conosce? le fa come? no quando l'ho visto è morto uno di covid come il come il Brigitte Bardo l'11 settembre che facevi l'11 settembre stavo là stavo qua dove facevi l'11 settembre? eh ero dal dentista ok quindi in una delle due torri però fortunatamente fortunatamente sono andato via poco prima del secondo aeroplano del secondo perfetto ero dal dentista e poi sono tornato a casa e è successa quella roba in Cile incredibile che leggi? no vabbè robe mie bello altra cosa tu sei mai finito tu non sei mai finito in una shitstorm vero? perché tu non sei uno che si espone tanto sulla cosa non ho mai capito quant'è una shitstorm ci sono delle shitstorm piccole che da chi le subisce dice ma no hanno fatto una shitstorm e invece altre che magari sono grandi però se non gli dai peso sembra che non esistano ma forse shitstorm che se ne è parlato sui giornali sfortunatamente no però guarda no forse su twitter qualcosa su twitter twitter è sempre il luogo ma è che su twitter è successo talmente spesso che non è che penso oddio mi è successa una shitstorm ok e e sì perché avevo scritto sì no me ne è successa una quando memory me ha toccato una ragazza insomma io ho scritto non una di memo no e e se so arrabbiare ok però non è che è una shitstorm qualcuno ha detto guarda sto strunzo ma poi sto strunzo non è che con chi ce l'ho cioè non è che ho preso in giro memory me o o l'associazione è un'associazione lo so memory me no non una di meno a gioco di parole esistono un collettivo di femministe transfeministe che si chiamano non una di meno però mi stanno anche simpatie nonostante credano in qualcosa che di inventato dici no no mi stanno così simpatie però che ne so spero che non siano state loro a offendersi perché comunque so so tante e no e poi un'altra volta dici meglio focalizzarsi tipo sulle minoranze su persone che magari faticano no e poi mi era successo la vigilia di natale c'è sempre questa cosa del natale coi parenti bigotti che schifo mia zia che dice queste cose non ci posso credere mio nonno vota salvini queste cose tutti hanno ste famiglie orribili così ok e peraltro esiste un racconto molto divertente su questo tema scritto da da sgargabonzi ovvero Alessandro Corio uno scrittore che è proprio su una cena di Natale con ragazza giovane che si confronta con una famiglia di matusa e quello è molto divertente io ero alla vigilia di Natale ho aperto Twitter e ho scritto che vergogna alla mia famiglia mia nonna ha appena detto che sostiene i diritti LGBT e io ho detto che schifo lo dovrebbe sapere che si dice LGBTQ più ok e tipo ho detto portatemi via da qua che schifo la mia famiglia ok stavo semplicemente impersonando un un attivista che si lamenta che sua nonna non sia a suo livello e è come se avessi scritto dai commenti era proprio come se avessi detto viva la guerra nel senso proprio mi hanno però non te ne frega niente ma no perché poi non si è mai tradotto in in percosse cioè ah ok ha senso certo perché appunto tu quando qualcuno atterra però se no no ma si sono mi aveva mandato un messaggio vocale Frank Matano dicendomi Valerio buona shitstorm di Natale l'hai fatto molto bene e io ho capito che quel messaggio non è quel tweet non era stato capito lui si vede che lui l'aveva letta prima di me il fuoco poi l'ho visto un po' mi è dispiaciuto perché si sono rimasti ma poi con chi ce l'avevano cioè con chi pensavano me la fossi presa e poi cioè mo qua ho detto la stessa cosa che ho scritto però non credo che qualcuno si sia si sia alzato e se ne sia andato se così fosse hanno già pagato all'entrata esatto però a meno che invece di andare verso lì non arrivi verso qui ma sì ma dai non succederebbe no ho pure i calzini a favore no ma chiaro comprati ovviamente quando erano per la pace ah e poi li riutilizzi ogni volta che c'è una questione e quindi ci sta no e quindi molti si sono arrabbiati ma secondo me queste shitstorm non nascono dal leggo una cosa e non mi piace e oppure la critico è leggo una cosa condivisa da uno che dice leggete che ha scritto sto stronzo sì e quindi se te scrivi non lo so non mi sono trovato bene al teatro Caracamo ieri fine se lo condivide un grande attore di teatro e dice guardate che ha scritto questo stronzo che fa il suo night show del cavolo e la gente non mi piace il teatro ma come ti permetti ma tu non sai che cosa è quel teatro e quindi la leggi nell'ottica del mi sono addentrato in un esempio che non funziona però leggi il tweet nell'ottica già del antagonista ok e me ne compiaccio e tu non hai mai avuto antagonista cioè persone che ti hanno criticato in questo mondo nel mondo dello spettacolo non hai avuto sì ah non lo so e vabbè cioè dici persone dello spettacolo che mi hanno criticato sì che dicono ma questo stronzo lundini ah no ma no ma mi vogliono bene ti vogliono bene tutti ma sono molto innocuo cioè non è che dici sai perché uno ce la devi avere con me faccio niente ah però molti nemici molto onore ah grande le so tutte le sai tutte sì sì sei carico sì sì che peraltro è il tuo status su whatsapp se non immagini profilo immagini profilo no no ti sbagli no 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 non posso essere io no no come è andata con gli altri ospiti qual è quello che ti sei ritrovato meglio pinguini no no pinguini malissimo pinguini male malissimo sì 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 ora ci odiamo ci mandiamo ci mandiamo gli fedez bene bene e chi altro avuto Daria Bignardi Daria Bignardi buona dai sì sì tu la conosci? l'ho conosciuta telefonicamente ok sì cosa vi siete detti? ah così come stai? come va? voleva fare due chiacchiere ok e ti fa ridere lei? no ridere no no? no cioè mi sta simpatica non è che mi fa ridere cioè non è che ci ho mai passato una cena in cui mi ha raccontato un parzelletto ok l'ho conosciuta telefonicamente e mi è sembrata molto simpatica interessante lei conduceva il grande fratello no? mi sembra tu l'hai mai visto? ho visto adesso la smettiamo di fare sta cosa di quale? ah no niente la prima edizione quella con Tarricone e poi andresti a LOL ti vorrei vedere a LOL eh ma io ho paura che mi venga da ridere perché tutti pensano che io non sia uno che non ride tu non ridi? no no io rido rido anche molto volentieri però il problema è che se sto se sto in una stanza con delle persone indipendentemente da quanto mi fanno ridere proprio nella vita nella loro carriera cioè se a me uno mi si avvicina e mi fa io rido cioè non è vero io rido per nervosismo io riderei anche se faccio una cosa che mi fa ridere come ha fatto Frassica Frassica ha riso di se stesso è vero allora io stasera ovviamente ti stavo osservando perché davvero mi chiedevo ma Lundini non ride mai? no rido 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 però ti ho visto ridere poco un pochino ti ho visto ridere ma non tantissimo forse perché non ti ho fatto ridere ok l'ho visto mi è sembrato così sì sì ok no ma rido non rido sempre però rido ok quindi ci andresti? guarda dipende l'onorario ah ok cioè ne parlavamo con la nostra con la mia gente guarda sotto una certa cifra forse no sopra sì io quando l'ho visto la prima volta a certo punto vedevo delle cose tipo quando si leccavano la faccia è successo il lol questa cosa? allora io scrivo guarda se non mi offrono almeno un milione non me lo dire ok poi vedevo cose divertenti vabbè guarda pure se mi danno meno 15 euro si leccavano di nuovo quindi non lo so c'è un problema con leccarsi insomma però noi siamo in contatto per per farne sì una lezione dove si può ridere ok cioè una lezione 10 persone tipo nei lol passati chi ti è piaciuto? la verità però e perché devo dire bugia? no 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 perché mi fa mi fa parire più intelligente ah la verità come ti va bene mi apro però esatto mi ha fatto ridere il mago forest esatto sì lo dico ok no mi ha fatto ridere il mago forest perché voglio finire sul corriere quindi voglio che tu chiesti qualcosa di un minimo se vuoi finire sul corriere che ne so noi ci inventiamo qualcosa tiriamo sto bicchiere in mezzo al pubblico ma sì ma dai e allora mi ha fatto ridere vabbè Lillo mi ha fatto ridere ma io Lillo lo conosco a parte di persona perché ci lavoro in radio insieme da tanti anni ma anche da tanto tempo sia come artista sia anche di persona fuori dal lavoro quindi tutte le cose che lui ha fatto lì un po' le sapevo però gli altri no quindi era divertente vedere vedere che l'Italia si è accorta di alcune gag divertenti e poi vabbè chiaramente Guzzanti Virginia Raffaele esistono di quelli di Roma sembro sembro il classico romano per tutta una roba e proprio quelli fanno ridere e i romani fanno ridere sì chi altro c'era? Mago Forest Frassica nell'ultima eh? Maccio bravo mo li sto a dire tutti così ne rimane uno diciamo che chi altro? Fabio Balsamo mi è stato molto simpatico vero? bravo Fabio sì nonostante napoletano però molto divertente no ma mi è piaciuto mi è piaciuto gli altri hai detto molte donne terribili c'erano molte donne Virginia Raffaele Virginia Raffaele Virginia Raffaele Brenda Lodigiani simpatica e gli altri gli altri no gli altri no vabbè ci sta ma l'ho detti tutti infatti perché dicevo appunto è sempre una bravi tutti tutti bravi io lo so che non lo pensate no scherzo ma comunque è divertente ma poi secondo me essere divertenti in quel programma non è per forza no su quello sono d'accordo secondo me ci sono molte persone che sono molto divertenti però lì non funzionerebbero sì vero che è una delle ragioni per le quali a me non piace tantissimo il programma perché alcuni hanno bisogno di un setting differente no? sì lo vorrei vedere tu faresti così? ma no perché poi c'è Fedez che dice eh Lundini non sta parlando vai dai facciamogli fa quindi tu ti metti una tutina strana ma non fa ride però lui conduce non ho mai capito che ruolo ha perché a volte conduce a volte a volte sta alla spalla sì sì però lui fa ride ha fatto una cosa col neonato che vabbè mo senza che parliamo di lol ha fatto una gag con un neonato che parlava con la sua voce quella era la figa cosa sono le cose che a te fanno ridere di più? cioè qual è il tuo allora ci sono cose che mi fanno ridere che mi divertono perché di qua com'è bella com'è fatta bene che sono varie le prime cose che mi facevano ridere sono i film con Leslie Nielsen quindi le pallottole spuntate tutto il cinema di Mel Brooks che secondo me è un po' invecchiato male purtroppo però all'epoca era bellissimo e poi mi fanno ridere anche cose molto molto sceme cioè non lo so a me fa ridere quello che spacca le cose in cucina how to basic davvero? sì ok davvero? fate l'applauso ok l'applauso l'applauso per how to basic che è seduto come nascono questi applausi ha detto how to basic applaudiamo cioè poi tutti insieme non è che uno è partito perché evidentemente c'è un desiderio nel popolo forse perché è una cosa che credevano fosse di vecchia e invece la conoscevano tutti quindi sta parlando di me e poi no eravamo tutti esatto esatto sì 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 sono quelle cose un po' scomole questo finisce sul Corriere secondo me questa sì questo passaggio cazzullo ma lo pam cazzullo cazzullo questo fa ridere Aldo sì sì madonna e no mi fanno ridere lo sai che ogni tanto quando vedo delle cose mi fanno molto ridere dico ah vedi quando nelle interviste mi chiedono cosa ti fa ridere devo dire questo però qua me lo scordo sempre tipo più è Amedeo fanno ridere più Amedeo no no però no non voglio l'applauso mi fanno mi fanno straridere però io però però li ho li ho conosciuti sai non è che non mi fanno ridere significa che io li ho conosciuti alla festa della satira delle forte dei marmi dove modestamente mi sono portato a casa tre premi e non fate applauso ogni volta allora e c'erano anche Pio Amedeo che mi guardavano storto ho avuto questa sensazione io spero che loro vedano e mi dicano che non è così mi guardavano storto perché giorni prima qualcuno tipo forse Selvaggia Lucarelli aveva scritto che vergogna hanno dato un premio a Pio Amedeo e non a Lundini ok ha detto lei ma quindi sei amico di Selvaggia Lucarelli no non la conosco vabbè e peraltro lei parla male di tutti invece vedi pure quella cosa che dici chi ti odia manco Selvaggia Lucarelli e quindi si vede che questi Pio Amedeo hanno detto come se domani una da Selvaggia Lucarelli scrive Alessandro Masala è uno stronzo è meglio Edoardo Ferrari e c'è una parte di te che dice ma guarda un po' sto Edoardo Ferrari cioè giustamente che è una cosa che dicono molti soprattutto Pio Amedeo allora si vede che Pio Amedeo mi guardavano come è arrivato Coso dopo un po' c'è stata una cena e si sono messi tutti a cantare e sono andato a cantare anche io con loro ok e loro secondo me hanno detto ah mo lui non c'era mai il coraggio di mettersi a fare l'animatore da villaggio turistico ma che è un film sì sì perché era una roba molto vacanze di Natale perché c'era questo ristorante di Forte dei Marmi prima di me hanno detto non devi vieni a cantare con noi io sono salito e ho fatto Air Foco ok cioè cos'hai cantato ho cantato Gianna Marmi c'era anche Emanuella Fanelli con me perché anche lei ha preso il premio e lì siamo diventati amici perché hanno detto ah ma allora questo c'ha gli occhiali ma non è un intellettuale è una bestia come noi ok e lì poi e là c'ho e là c'ho poi ci siamo stati anche simpatici però secondo me c'era un po' la cosa del questo c'ha gli occhiali perché la gente quando vede che c'ha gli occhiali e l'amico tuo di Whatsapp dice lo capiscono solo quelli brillanti ma è logico che te stai antipatico ma e quindi a me tutte le volte che dicono che mi si accusa tu hai scherzato hai detto Rai 2 è una rete di destra no però a me l'accusa più brutta che mi fanno è quando dicono ah questo fa un umorismo per quelli di sinistra ma io ho sempre rifugito quel tipo di umorismo ma non perché sia contro la sinistra ma perché sono cresciuto in anni in cui l'umorismo era sempre fatto per dire ragazzi siamo tra di noi ci capiamo tra di noi e quindi umorismo sulla politica quando poi la politica chi la pensa come te già lo sa che a basso Berlusconi lo sappiamo cioè lo sappiamo cioè nel senso il tuo pubblico lo sa ma non e quindi a me quando mi dicono ecco questo è l'altro comico di sinistra a me dà fastidio perché io faccio di tutto per non sembrare di sinistra anche perché non lo non è che lo sono non mi fiega niente sai come quelli io non so né di destra né di sinistra chiaramente fascisti ok però 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 quindi e quindi secondo me prima me dà hanno pensato questo è uno con gli occhiali sarà un comico di sinistra che piace all'elite beh al netto del fatto al supermercato proprio cioè e quindi poi gli ho detto ragazzi guardate io so come voi ok abbiamo vittato insieme io sono un po' convinto che i tuoi occhiali siano finti in realtà io sono un po' convinto che i tuoi occhiali siano finti no sono veri sono veri perché tu te li togli te li metti te li fili nel taschino li lanci pure le protesi una se le toglie se le mette è vero e infatti sono finte no però questi no no magari fossero finti sono veri e me li so anche persi e ho dovuto rifare la montatura quindi è costato anche dei soldi insomma abbastanza una cifra abbastanza importante quindi non solo di sinistra ma proprio radical chic nel senso che ma no no mica come delle persone che possono pagare 20 euro per andare in teatro capito? no dico teatro ho detto teatro? ho detto teatro vuoi sapere quando faccio la replica dello spettacolo qui all'Arcimboldi? sì ho proprio una domanda qui dove saranno i tuoi il 5 giugno all'Arcimboldi qui a Milano se volete venire vi sono avanzati dei soldi dopo oggi secondo me il modo migliore per finire quelli che sono rimasti aspetta che controllo bello questo momento ah 5 giugno al teatro degli Arcimboldi il 14 giugno forse alla Cavea Auditorio in Parco della Musica poi tempo che esce la puntata magari tanto non tagli niente no 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 tempo che esce la puntata guarda c'è anche questo se vuoi un attimo fare il tuo no ma è più importante lo spettacolo ah quindi questo sì questo l'abbiamo venduto lo spettacolo adesso questo anzi questo lo darei un ragazzo perché ha detto che lo voleva prego vieni anzi avvicinati vieni qua vieni qua questo come ti chiami? Francesco questo lo diamo a Francesco un applauso totalmente senza senso perché non sapete il perché però voglio anche far vedere che io sono uno che prende ma sa anche dare sì sì mi è dispiaciuto l'applauso quando ho detto che non mi facevano ridere Pirameteo mi è sembrato mi è sembrato un po' bullismo ti è sembrato bullismo no è vero è vero cioè non è che li seguo non mi fanno impazzire però viva Pirameteo tu sai perché ti scrivevano sta cosa no? ci sono rimasti male perché ho fatto un video a Pirameteo no perché erano Pirameteo più o meno uscivano no ah ok Pirameteo uscivano da una shitstorm gigantesca non so dire shitstorm un po' come gli anziani ti ricordi no? sì sì in cui avevano fatto questo monologo un po' a te era piaciuto quel monologo? no però l'avevi trovato io poche cose conosco loro quel monologo non mi sembrava centrato cioè nel senso è quello in cui dicevano le parole in cui dicevano ad esempio se vi chiamano froci voi sorridete certo che sorridiamo eh cose che già sapevamo questa roba solleva un tema ovviamente è super difficile sollevarlo con il clima che si è creato adesso però è un tema cioè le cose che effettivamente si possono dire per scherzare no ma si può di tutto si può di tutto sì sì e il bello lo sono l'hanno detto e non è che sono stati fucilati ma meno male insomma ne stanno pagando diciamo le conseguenze ma quali? quelli gli occhiali se li rifanno quando gli pari io non so ah se perde gli occhiali Pio dici che se uno che non è che va dall'ottico e quello che fa ma lei ha detto quella cosa Pio va là ma me compro l'ottico no comunque non lo so no sì ma io non credo la cosa che non si possano dire determinate cose ok quindi si può dire sempre tutto? no sono sinceramente interessato non sono ironico ma è un tema nella comicità questo qua no ma è un tema più creato che esistente ok cioè è più una cosa di cui si vuole parlare ma poi alla fine tutti diciamo quello che ci pare la vera discriminante è ci diverte dirlo lo diciamo perché è divertente lo diciamo per provocare o per per infastidire però poi alla fine fai tutto cioè io ho scritto quella cosa su Twitter qualcuno si è arrabbiato ma eccomi qua ho pagato 8000 euro esatto che è il costo di un paio di luci infatti dovranno essere di più no ma cioè io non so se anzi se magari nessuno si è accorto no no quindi sì si può dire tutto ma pure te puoi dire tutto io posso dire qualsiasi cosa sei sicuro? sì tranquillo secondo me non si può dire tutto cioè tu non ritieni che ci sia sempre una responsabilità da parte di chi comunica un qualcosa? tipo bestemmiare bestemmiare no non è carino ok però si può a parte che in Rai non te lo fanno fare però chi è che ha bestemmiato recentemente? quello dei cugini di campagna stava a Sanremo facci caso solo Bigazzi ha pagato non il direttore della fotografia l'unico che non ha potuto dire qualcosa era Bigazzi che ha detto che mangiavano i gatti in tempo di guerra è stato radiato dalla tv e quella è una cosa secondo me seriamente folle però è l'unico eh cioè più o meno hanno detto frocio non è che tipo stanno in carcere no ma nessuno sta dicendo che debbano essere messi in carcere va beh in carcere comunque fanno il programma lavorano cioè non è che non è o chiaro cioè non bisogna perché non bisogna confondere non si può dire con non piace a molte persone non piace a molte persone è un tema ah è quello normale ma quello ecco cioè pure Totò non piaceva a molte persone ma non è che c'era Twitter in cui dicevano ah Totò non mi piace perché fa sempre questa cosa con la testa ovviamente è una roba tipo non mi piace perché non mi fa ridere la sua comicità una cosa è non mi piace perché veicola un messaggio che è ah ah ne stiamo ridendo ma in realtà danneggia qualcuno ah vabbè certo se qualcosa danneggia qualcuno se qualcosa danneggia qualcuno ci sarà sicuramente qualcuno che avrà da ridire ma non è che non lo poteva dire cioè non si può dire significa che ti che ti fanno ti tolgono qualcosa una volta che l'hai fatto se quel qualcosa è il beneplacito di tutto il pubblico è sempre stato così cioè non credo che negli anni 20 si potesse dire tutto no non si poteva no 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 cioè in qualunque periodo storico c'è gente che si lamentava del fatto che nell'attuale non si potesse dire qualcosa più che altro però qui stiamo parlando di una cosa che è specifica dalla comicità guarda secondo me è più facile per un comico dire qualcosa che cioè se quelle stesse cose non le diceva Piero Medeo ma le diceva Rosanna Lambertucci sì ho capito è chiaro che se dici quella roba lì a caso la dice Mattarella fai interessante e quindi cioè tipo Cremonini aveva detto io la donna delle polizie la chiamo Emilia e se sono arrabbiati la chiamo Emilia Romagna che lui è il mio romano se sono arrabbiati perché è una cosa antipatica cioè perché chiami se la diceva un comico magari faceva fine cioè finiva capito chiaro perché è data nel giusto contesto e quindi il comico è avvantaggiato quindi tu dici che nel giusto contesto si può dire qualsiasi cosa forse sì e ci sta è un bel messaggio in generale poi è chiaro se non ti piace non ti piace è giusto che non ti piaccia ok cioè a te piace De Sica ma cos'è che non ti piace io Pio Amedeo ad esempio non ti piace Pio Amedeo basta no invece viva Pio Amedeo non voglio che diventa il podcast contro Pio Amedeo no no questo è il titolo che è proprio antipatici no no ma sul corriere Cazzullo è pronto Cazzullo è pronto io spero di no ma più Pio più Amedeo beh Pio comunque già entra nel sacro Amedeo Amedeo ci si può salvare Amedeus Pio e Amedeus Pio e Amedeus un nuovo duo tipo non era una Sanremo ad esempio Pio e Amedeo tu dici perché hanno detto quelle cose oh può essere eh vabbè neanche tu ce ne sento tu c'eri però però si stavo tra il pubblico stavi lì com'era bello? un po' lungo quindi tipo anche lo schiaffo a Chris Rock adesso torno indietro nel tempo ah me ne frega niente te ne frega niente no proprio una cosa che ci stava anche un po' ma è proprio una cosa non c'ho un parere su quella cosa cioè se sono due che si sono menati ma perché non è ovviamente ogni volta che tu togli il contesto certo però quello è uno che ha rosicato per una scusate ho detto una cosa romana cioè è rimasto male perché perché quello ha fatto è pieno di romani che hanno subito capito ma sì è ovvio eh sì però ma che ce frega ma che ce frega ma è successo a più di cento chilometri da qua sì 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 cioè come Zechila e Pappalardo ma in America eh cioè abbiamo problemi più gravi ah ok no che ne so vabbè ma quello non è il si può dire quello è proprio uno che ha menato un altro perché non gli è piaciuto un insulto che è una battuta che ha ricevuto cioè è veramente Zechila e Pappalardo lascia stare mia madre e quello lascia stare la moglie quello che è però anche lì c'è la questione è un roasting sono lì che sto prendendo in giro le persone sono pagato per fare quello prendo in giro la persona ma a me non mi fa impazzire questa cosa non ti piace? ok che devi prendere in giro? eh ma come ti permetti? giusto? mentre Froci va bene perché lì ma no cioè non è che tipo io vado da uno e dico Frocio no giusto quello darebbe fastidio no? no no ma è che va bene Froci attenzione ma chi è? va bene Froci cioè non va bene i Froci vanno bene non vanno bene non vanno bene diciamo diciamolo chiaramente a una certa distanza certo no però no no ma che c'entra nelle ma poi poi secondo me non lo so ma quello è è uno contro uno cioè è io che litigo Francesco no? perché non ha pagato il mio libro se è venuto qua e se l'ho regalato io esatto e l'ho ottenuto gratis e io dico Francesco maledetto te e lui dice come ti permetti viene qua e mi tira un pugno è una cosa diversa dalla censura quella è proprio una due persone che hanno litigato se poi io l'ho detto come forma dell'arte forma artistica come Chris Rock ha detto la battuta tu la ritieni una forma artistica questa è la domanda no no la mia no però magari Chris Rock cioè io che dico a lui tu sia maledetto non è una forma artistica Chris Rock che fa una battuta può piacere o no però è il suo lavoro quindi era la sua cosa e oh ma ci sta cioè non è che tipo tu prendi in giro le persone e metti in conto che nessuno ti può dare uno schiaffo cioè capito nel senso e tu fai quello non sono d'accordo io non me ne avrei mai nessuno non ho mai fatto in vita mia non lo saprei fare più che altro però se il mio lavoro è dire te sei così te sei cosà te tua moglie tua moglie puzza c'è tutto uno che mi dà una pizza ci sarà e non è che quando succede oddio non ho tutto mi aspettavo se no anzi dipende dal contesto nel senso se tu vai lì per sentire un comico che ti prende in giro non è esattamente così però cioè si sa ma perché mi deve prendere in giro quello perché funziona così agli Oscar sono il comico che prende in giro ma fanno ridere ste cose dipende cioè te ne fai che Chris Rock che dice tua moglie così non sto dicendo che non lo può fare a me non dispiace Chris Rock a te non ti piace no americani chi ti piace? lui C.K anche a me tantissimo mi piace how to how to basic how to basic lui C.K fa effettivamente ridere how to basic ah grande quello che spacca le ova si e no lui C.K ma lo sai perché? perché io lo sono stato pure a vedere a Londra stavo a Londra lui C.K andiamo a vedere non ho capito niente ok e quindi quando poi è tornato a Milano a Roma non sono più andato perché ho detto no non capirò niente finché a un certo punto ho detto se mo tutti gli amici di me ci andavano andiamo a vedere lui C.K è un grande e io dicevo no 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 non ci vado perché non capisco niente e ho detto mo alla quarta non ci vado sembra una posa sembra tipo no non ci vado non ci vado non ci vado allora sono andato ho capito tutto quindi forse è migliorato il mio inglese ah ok si si molto divertente a me lui C.K fa davvero e poi è la persona che mi fa ridere tantissimo perché secondo me c'è tanto di se stesso che poi abbiamo anche scoperto però ecco quelle robe lì che emergono nella sua comicità non sapevi niente ah si si quella roba del pene no no non lo dite no 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 ma loro non lo hanno capito si si a me fa molto ridere il fatto che esca molto la persona per quello cerco di capire che persona sei o se fare ma poi anche tu potresti avere problemi col pene o altre questioni così però non mi sembra no mi trovo bene mi trovi bene ti fanno ridere gli sketch di Dani Cabras su tiktok scusate questa domanda la devo fare e poi dite chi è Dani Cabras no no qualcuno sa chi è Dani Cabras sì purtroppo purtroppo no no e chi è Dani Cabras meglio o peggio di Pio Amedeo ma scusate non voglio meglio o peggio di Pio esatto e chi è Dani Cabras è uno che fa video su tiktok è sardo quindi dovevo fare questa domanda perché noi ci conosciamo tutti ah ok ok e quindi è divertente è sardo ho capito è divertente vabbè non c'è un plebiscito proprio vabbè Dani Cabras Dani Cabras dai davvero no no non lo conosco vabbè fai video su tiktok io su tiktok seguo solo una persona Breaking Italy? no ah che è questo ragazzo della provincia laziale che ha delle galline e è da mangiare alle galline le prende a calci le chiama puttane ed è ed è proprio gli voglio bene sta proprio simpatico cioè lui c'ha delle galline le ha da mangiare ogni tanto qualcuna muore ogni tanto gli cagano sulle mani lui si pulisce addosso al loro manto ed è l'unica cosa che ritengo molto simpatica perché è proprio un ragazzo si vede che è un bravo ragazzo un bravo ragazzo sì che lavora in campagna lui è contento ho visto che una volta ha fatto una storia in cui diceva che ho visto che Londini segue solo me ed era tutto contento tu segui solo lui io seguo solo una persona ok non lo uso tantissimo TikTok però seguo solo lui ok è simpatico ho visto un paio di video vabbè spero che gli avvi fatto un bel endorsement però non sai come si chiama vuoi controllare? ok no perché mi viene in mente un nome anche Dani Cabras a questo punto non lo conosco in realtà vabbè dai dobbiamo stare col telefonino in mano sì sì tagliamo tutto poi tiè Raffagnani che dice che belva sei aspetta Graziano Rinaldi ciao Graziano a questo punto è palese che gli applausi siano pilotati cioè è proprio palese è diventato palese Graziano ebbè perché sono gli stessi di Auto Basic a cui ho consigliato un contenuto che comunque secondo me si sposa molto sì sì se ti è piaciuto Auto Basic potrebbe piacerti anche Graziano Rinaldi peraltro tutto parte da te che spacchi mattonelle in gioventù è vero è tutta roba di rabbia vero? è vero che ti esce sì 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 rabbia no prima una tua collega ha detto niente ha parlato della rabbia paese allora adesso parliamo della rabbia e niente mi faceva ridere questa assonanza ok la rabbia saudita che ha preso un aereo e arriva da là è una cosa che è successa a me prima tagliala sì sì no ma tutto tutto questo è una roba di 20 minuti dove vuoi arrivare? altra domanda che mi cosa vuoi fare in futuro? è di divertirmi tutta la vita ok è seriamente questo il tuo motore stiamo arrivando diciamo no beh sì cercare di fare cose che mi divertono e non 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 intristirmi ok lavorativamente se queste cose vengono anche pagate è il top certo certo penso sia l'obiettivo di tutti sai quella cosa trova un lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno della tua vita bella la leggo come trovo un lavoro che mi piace non lavorerai non lavorerai manco un giorno della tua vita e quindi niente se riesci a fare quello che poi già l'autore tu mi dicevi comunque sulla buona strada lì sì l'autore era divertente però poi quando c'erano cose che mi divertiva a scriverle io dicevo questa come la spiego perché l'autore deve dire ho questa idea ok e ho capito che era più facile scrivermele per me e da lì ho tradotto anziché scrivere spiegare far fare un altro prendere se prende il merito faccio io sto qua adesso a a Breaking Italy è difficilissimo capire quanto tu sia effettivamente ambizioso dove voglio arrivare quanto tu la butti mi voglio divertire no no voglio divertire è la più grande ambizione che c'è sì qual è l'altra? voglio realizzare delle cose no è chiaro mi voglio divertire facendo delle cose magari le scoprirò cioè adesso io vorrei scrivere un musical wow questa è una grande ambizione perché devi trovare tutte le persone in grado di farlo quindi la persona che sanno cantare ballare devi fare le luci devi spendere un mucchio di soldi e devi sperare che questi soldi in qualche modo ti rientrino e quindi è una grande ambizione e soprattutto devi scrivere una cosa bella e io ogni tanto vado a a vedere i musical a Londra perché li fanno anche in America ma è troppo lontano a Londra so grossomodo gli stessi fatti nello stesso modo e sono le cose che più mi piace vedere che più mi emozionano quindi i musical ok sì sì sono bellissimi non c'è se li vedi in tv li vedi in Italia hai una versione che è l'1% di quello che vedresti nel peggior musical a West End a Londra o a Broadway a Nova York quindi e quindi io vedo una cosa del genere e penso proprio che più io credo molto nella forza delle idee ma più forte delle idee c'è il denaro e quei musical sono fatti con grandi idee grande bravura grande capacità di composizione musicale ma tantissimo denaro che è una somma di denaro che nessuno di noi in Italia si può permettere ok se anche i più grandi performer quelli che fanno numeri più grandi tipo Checco Zalone se facesse un musical lui con chi è il calciatore più forte che c'è? Giuliette Totti Van Basten fanno un musical a teatro per quanto possano fare sold out tutte le sere non potranno mai farlo per dieci anni di fila invece a Londra vedi gli spettacoli che ogni sera fanno sold out per dieci anni e quindi possono anche investire in effetti speciali costosissimi e rientrare potranno sempre rientrarci ok quindi questa è la più grande ambizione del mondo cioè davvero cioè vorresti non solo fare un musical ma metterlo a regime in questo modo? no si se va fatto va fatto con un sacco di soldi perché tutte le volte che ci sono dei tentativi di musical in Italia sono sempre un po' ok un po' brutti cioè no brutti vedi un po' di povertà ma non è povertà per colpa loro no è povertà proprio economica cioè una roba eh sì quindi e film? film? sì che ne so ti vedo con che cozzalone e gullit e gullit e non so da dove mi sia uscito gullit ragazzi l'hai detto tu vabbè i calciatori io pure avrei pensato a gullit vero gullit perché sì e film eh sì è difficile non è facile fare i film ti piacerebbe? ne ho fatto uno da attore deve ancora uscire non l'ho scritto e e deve uscire ancora quindi là ho provato è un po' lenta come cosa fare i film perché ci stanno un sacco di pause cioè non come qua che invece stiamo volando no però qua te giri tutto film dopo un po' ce l'hai lì invece devi dire buono sto mirto stai un'ora aspetta una che ti trucca uno ti sistema i capelli mi dice aspetta te non c'avevi la tasca piena e io dico sempre ma che te frega tanto non è che cioè non è che se in Pulp Fiction c'è una scena che prima c'era una sigaretta qua poi c'è la qua il film non lo vedevano certo ragionando così certo ma si finisce a fare le cose un po' all'italiana diciamo però questo l'ho fatto in Italia il film e ci sono stati attenti e che film è? e no a me deve uscire aspetta magari il regista dice ma come lo volevo dire io ok ed è un film comico comunque no è un drammatico dove tu fai una battuta come nel coso di Pulcino quale? è come nel film del Pulcino si è film emigrati e poi tu a un certo punto dici una battuta no è un un road movie cioè un film stradale ah un road movie ok road movie si non è comico proprio non è la pallottola spuntata ok è più boh mo lo vedrai poi mi dici vabbè adesso vediamo nel senso non mi era venduto benissimo però no no non vuole essere comico è tipo dramedi che è una parola crasi come dice Christian De Siga in un film grandi grandissimo Christian De Siga con Massimo Chini e niente figo figata però ok no dimmi dimmi che vuoi fare nella vita mazza l'ho detto tutto il musical no sì no ma è una figata il musical il musical lo faccio anche perché tra un po' sono vecchio tra un po' sei vecchio tra poco cioè metti che nel musical pure io faccio una pilloletta devo devo farlo in un lasso di tempo che è quello in cui io imparo a farla ok e quindi già tra molto tempo ma prima che io non possa più farla ok quindi ma qual è la finestra nella tua testa? eh allora io ho conosciuto Roberto Bolle qua a Milano in questa stessa città e lui sa farla sta cosa eh sì wow e lui è lui è molto più grande di quanto sembri però è uno che si allena tantissimo cioè se lui dice stasera al kebab lui dice no e già è già questo è un punto a suo favore vero e quindi no quindi c'è insomma lo devo fare lo devo un po' l'ho già scritto però devo trovare gli attori vorrei un attore in particolare ma tu vorresti davvero ballare nel musical? non è che voglio ballare ma se serve che in una scena ballano tutti non è che poi lo sta fermo io ve l'ho scritto cioè beh che ne sai magari te lo strutturi tu stanno con le cose in cui il protagonista sta al centro fa così è un po' come ballando con le stelle fanno così quando sei un po' age allora c'è la ballerina il ballerino tu stai immobile io fanno una cosa incredibile anche perché se no salvaggio lucarelli ti fa pezzi selvaggio lucarelli ti fa pezzi io ho la sua stima è un attimo che la perdo stai scherzando però appunto bisogna anche sbrigarsi però tu che non guardi lo vision questo lo so perché me l'hai detto prima sì non guardi cioè non è che non guardo per scelta l'amicizia morta non l'ho mai visto c'è stato Cattelan che ha qualche anno più di te credo sì che ballava e è super bravo ah vedi sì quindi puoi puoi essere Cattelan volendo io vorrei ballare meglio di Cattelan meglio di Cattelan sì meglio di bolle adesso guardo no ok voglio ballare meglio di uno che non è un ballerino magari la gente dice ma sta a ballare però se io ballo meglio di bolle cambio lavoro ok io non voglio cambiare lavoro no perché non voglio perché il kebab comunque mi piace ci sta ci sta ed è anche una cosa adesso non me lo guardo come ha ballato Cattelan voglio proprio vedere sì io quando l'ho guardato ho detto accidenti io che guardo Cattelan come una delle figure che insomma mi ispiro l'ho visto ballare ho fatto no però io quella roba lì siamo seri ah vedi vedi preparati a questo grande musical non credo in me stesso a meno che tu non mi voglia nel tuo musical eh non lo so perché non hai due notati no? fisici perché vorrei vabbè no poi poi quando lo farò ti dirò di che parla ah ok mi servono tutti che abbiano un aspetto di un partito e quello lo rende ancora più difficile vabbè poi ne uscirà ok quindi non no se dico di che parla la mia creatività viene appagata dall'averlo detto ah quindi devi tenere tutto sì perché ho capito che se dici c'ho un'idea e cioè è un film su che ne so Berlusconi che fa il giro del mondo e diventa papa la gente fa ah 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 carino e te dici l'avete detto è carino basta non lo faccio più ok è come no è come la seduzione vai nel senso che magari alcune persone escono con delle delle persone capiscono che si piacciono basta no non ho esperienza di questo non come al solito hanno degli applausi ma c'è tipo un capo ultra che fa adesso che è disperato e fa c'è tipo quello applausi fate un applausi sì 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 no solleva una gigantesca gigantografia di OutBasic ah ok abbiamo visto che funziona sul sì 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 questo è divertente che ora si è fatta ah si è fatta una certa come si dice me ne vado dici vado via no dai un consiglio a tutti questi giovani comici che non sono romani perché se sono romani è già fatta no se siete romani è difficilissimo perché dovreste provare a imitare un po' il dialetto che vi posso dire andate a LOL fate a botte col più romano di tutti così fate capire chi comanda come in carcere come in carcere sì 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 no non lo so che consiglio no ma non posso dare consiglio non puoi dare consiglio adesso sono inattivo e adesso non sto facendo niente sto solo scrivendo quindi sono disoccupato quindi il consiglio è meglio che lo da Cattelan visto che balla così bene vero però non è un comico e non è manco romano se ce la fa lui però non è un comico ma perché non è un comico Cattelan io non ho mai capito perché non dicono che Cattelan cioè comunque fa battute fa uno spettacolo che è comico vabbè chiunque fa battute perché a me dicono comico Cattelan non è che allora Mentana è un comico perché ogni tanto mi parte la risatina ma Mentana non fa rile eh eh Montana vorrebbe vorrebbe eh vorrebbe fare il comico dici beh fa sempre battute sempre così eh però nessuno gli ha mai detto sei un comico quando è morto il primo morto di covid c'era anche lui a quella cena eh e si stava a fare quattro risate e come era triste è vero no no quindi Cattelan è un comico Cattelan è un comico cioè perché non lo è perché non non fa cose vuoi chiamare chiedergli se è un comico chiamiamo Cattelan sai noi VIP abbiamo i numeri di chiunque sì no ma è una roba vostra infatti io lo chiamo Cattelan ma tu dovresti chiamarlo Ale lo sai che lo volevo fare ok però non è che lo conosco così bene cioè è un po' un ipocrisia ok Alessandro Alex sono al teatro Caracano con Alessandro Masala si parlava di comici lui dice che tu non sei un comico nel senso dice vabbè ma Cattelan è un comico però comunque fai una trasmissione che è anche umoristica e fai battute quindi sei un comico per me ma non lo dico in senso negativo lui neanche lo diceva in senso negativo tutti e due in senso positivo dicevamo una cosa diversa dall'altra questa la gente ride perché io faccio queste cose perché sei un comico e quindi niente rispondimi tanto sono le 23 quindi finirà la puntata che non avrai risposto perché noi famosi non rispondiamo subito proprio al telefono no 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 neanch'io lo faccio anche se non sono famoso ma io perché ho l'ansia quindi tu non ce l'hai mai questa roba poteva saltar fuori vedi ma se non lo salta fuori al volti ho altre domande tu sei sempre la stessa belva comunque cioè sempre un essere umano sempre un essere umano ok ma dove sono? non voglio annoiarli sono le 23 sono le 23 ok due ore sì mazza tante vero scusate ti ho visto parlare di questa è l'ultima domanda che ti faccio beh beh mi attesa la tiriamo alle lunghe la tiriamo alle lunghe a Alex a meno che non stia ballando molto bravo voglio vedere che passi fa che avresti dovuto dire comunque da no allora insomma lascio senza aeroplano così se risponde ti ho sentito in altri podcast inferiori a questo diciamo che non hanno lo stesso livello di qualità e di videocamere di luci di droni e di stai cercando il drone? no e quindi negli altri podcast ti ho visto parlare di sindrome dell'impostore però tipo sindrome dell'impostore ha 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 io ho detto no lo inchiodo su questa cosa ce l'hai? no non ho mai fatto quella risatina all'aio no no l'hai fatta proprio così non ridi mai non ridi mai poi la prima imitazione che mi fai no 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 l'hai fatta così è basata solo su una risatina l'hai fatta con questo accento di Cagliari molto forte no allora la sindrome dell'impostore allora non è che è una cosa che io ho la sindrome dell'impostore cioè non è che tipo io ho questa cosa credo che molte persone abbiano questa piccola sindrome poi ha un nome che quindi la rende anche più appetibile quindi tutti dicono anche io cioè in altri casi c'era un periodo in cui c'era l'essere bipolari che tutti se ne appropriavano tipo sono troppo io non è che sei te sei una persona e quindi capita che un giorno sei felice un giorno sei triste che non essere bipolari non essere bipolari ok e quindi sindrome dell'impostore forse anche quella è un po' una cosa che facilmente te la puoi auto-diagnosticare capita a volte che fai delle cose sono carine ti sembra che vengano percepite come molto meglio di quello che poi sono o realmente o secondo te e allora dici un giorno se ne accorgeranno che c'è un grande blef ok tipo penso sempre che ogni cosa che faccio io l'abbia rubata anche se è capitato due o tre volte però due o tre volte è capitato di fare delle cose che involontariamente erano cose che avevo ricordato di qualcun altro quello capita a tutti poi insomma due volte tre volte mi è capitato l'ho dichiarato mi sono tolto sto peso e continuo a farlo con sta scusa no ma ci sta no che ne so è capitato una volta che ho fatto una cosa in tv che era molto simile a una cosa che aveva fatto uno che conosco ok dopo che l'ho fatta me ne sono accorto ma ormai era già a grande lundini se un genio ti sei inventato sta cosa e invece allora ho detto cazzo invece non me la sono inventata io l'avevo sentita e l'ho rifatta così e quindi penso e se fosse sempre così se ogni cosa che ho scritto fosse un una cosa rubata la risposta è che è sempre così nel senso che tutto quello che uno fa è un rimaneggiamento di qualcosa vero cioè tutto il remix di qualcos'altro c'era un documentario che si chiamava così che prendeva ad esempio le zeppeli diceva che le zeppeli non si sono inventati niente perché ogni canzone loro già esisteva fatta da altre eccetera e e quindi madonna sti calzini sono troppo vistosi e sì non mi aspettavo si vedessero così tanto no no e quindi quindi sindrome di impostore a parte che penso di aver finito le cose da dire non parlo di questo podcast che quello l'avrei dovuto dire un'ora e mezza fa potremmo andare avanti per in generale però lo penso ogni volta che devo fare qualcosa dico ah no io ormai non faccio cioè scrivi una serie scrivi ho finito le idee però poi quando c'ho la deadline mi viene mi vengono un po' perché copi diciamo un po' qua un po' là no però recentemente senza le deadline sto scrivendo un sacco di cose quindi mi è un po' passata quella sindrome dell'impostore ok cioè non è che è sindrome dell'impostore no ti capita a te mai di dire ma che sto a fare io sono un incubo ma io sono io sono concentrato di problemi di questo tipo ho l'ansia ho le cose le robe che tu non hai perché io tipo alla signora abbiamo vinto ma di poco glielo griderei mai di nuovo perché avrei l'ansia sono una persona con insomma questi disturbi ma troppo me capito troppo me ma io sono uguale cioè è pazzesco proprio ho fatto il test su facebook eh che hai fatto su facebook il test su facebook ah tu quale personaggio che personaggio sei Obama sei ti esce fuori Obama Obama se lo fa Obama esce proprio Obama secondo me secondo me sì se il test è fatto bene sì altrimenti va bene dai vabbè è stata una bella cosa come è andata? meglio dei pinguini? bello bello gradevole facciamolo un'altra volta cosa abbiamo imparato? che i pinguini tattici qua non funzionano non funzionano che Fedez va al bagno col bodyguard ah quello non l'abbiamo detto qua no non l'abbiamo detto qua l'abbiamo detto prima l'abbiamo detto prima mi ha detto quando Fedez è andato al bagno c'era il bodyguard che si baciano nel bagno sì questa cosa e che Selvaggia Lucarelli sto simpatico sì 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 che Graziano Rinaldi è un grande sì 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 l'ha detto il ragazzo quello del libro quello che Francesco non ha pagato si è sentito perché c'è il rientro il libro e che soprattutto 5 giugno grande ultima replica bellissimo bellissimo ultima replica dello spettacolo mio al teatro concorrente cioè non qui no no certo non qui più piccolo più piccolo al Franco Parenti fino al dal 31 al 4 giugno dal 31 maggio al 4 giugno ma è tutto esaurito ok allora ho detto perché posti piccoli sogniamo in grande e a Cimboldi Cimboldi che è gigante dopo che già ho venduto quelli del teatro Parenti quindi non ci sarà nessuno è il motivo per cui sto qui ok a dirvi bello se vi sono avanzati 40 euro perché comunque penso costi tanto non so quanto costa ma io non l'ho informato forse dovrei tu come sei messo con droni cose ne ho giusto ne ho giusto uno ok tipo io ho un'ora che ripeto questa cosa perché dovevamo fare una gag in cui sarebbe entrato un drone a un certo punto questa cosa non è mai accaduta e quando entra io che devo fare no ormai è finita ormai è tutto finito è evidente che questa cosa non succederà e fai volare ah ecco che erano quei uoi sì c'era il ragazzo quindi quattro questi sono 15 20 mila euro che sono andati via cioè questo cattelan non sono un comico sono un artista questo è un momento molto ma sto sentendo un rumore cosa? non so di che parli questa questo è questo è molto divertente questo fa molto ridere soldi ben spesi amici miei ci sarà un momento storico in cui si rivedranno i video di matrimoni o di spettacoli con i droni di questo periodo storico qua e saranno strani perché vedrai le persone del pubblico che guardano il drone mentre in futuro sarà tipo brilli sia la sposa passa il drone passa il drone che è quello normale è come cellulari no? e quindi 5 giugno teatro degli Alcimboldi mi dicevi 5 giugno che è qua è tra parte che tra poco al teatro del Alcimboldi bellissima location condice splendida adesso io tra qualche secondo mi alzerò 14 giugno cavea auditorium parco della musica per gli amici invece romani e tu a quale presenzierai? no io tutti a entrambi? io a tutti quanti perché devo anche un po' vedere le differenze ho fatto sta marchetta sto meglio vero è andata è andata perché ti senti un po' per ricordarmelo invece sono avuto unicamente per dire cosa? che il 5 giugno io memorizzo le facce sì spero di rivedere tutti voi specie qualcuno che insomma ha guadagnato anche qualcosa al teatro degli Alcimboldi qui nella città di Milano per chi ci seguisse da casa Milano teatro degli Alcimboldi non ci saranno altre repliche in altre città d'Italia quindi se abitate a Trieste Milano se abitate a Catanzaro a Catanzaro invece è più ok Roma dove mi chiedete amici di Catanzaro subito alla cavea dell'auditorium Parco della Musica il 14 giugno dove si sono esibiti pensa anche gli Arctic Monkeys bellissimo bellissimo un applauso grande vi chiederei allora un applauso per Lundini che ci farà un balletto grazie grazie a te questo è mio sì anche questo vado via arrivederci vuoi farlo grazie ciao come lo farebbe bolle no non lo vuoi fare ciao grazie Valerio Lundini il drone è stato faticosissimo potreste servire a corti che ho ripetuto la battuta delle cose un paio di volte in più rispetto a quanto avrei dovuto perché cercavo di però però è andata bene perché faceva molto ridere quindi sono molto contento spero vi sia piaciuto di nuovo ci ho provato a tirar fuori un pochino la persona dal personaggio mi direte poi voi se ci sono riuscito quando pubblicheremo nei commenti me lo scrivete potete scrivere solo cose positive ovviamente dire sei un grande ciao bravissimo grazie mille grazie è questo il tipo di chiaggeria grazie grazie mille no veramente grazie a tutti e a tutte per essere qui per aver reso possibile questa serata ci tenevo un sacco a incontrare Valerio adesso cercare di infilarmi in tutte le cose che farà insomma è un po' la mia porta verso il mondo della comicità su quello che sono evidentemente portato quindi ho finalmente trovato la mia nicchia in Rai Rai 2 che va bene si inizia a qualcosa comunque grazie agli sponsor NordVPN e Tridon che insomma permettono questa roba qui le pigliette lo sapete tutto quanto com'è? le luci le luci almeno due luci sono cioè grazie a loro e niente buona serata buonanotte ci vediamo alla prossima grazie 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 a tutti grazie a tutti ben tornato di nuovo prestato del video di animale ma parla è no offite ma è oggi a non ti ho lasciato in visto E sono un necromisto Proprio come sto disco Da unio di un fil di canna Che bello su la scella Dove il titiano vende e la tutta guarata Dove le ragazzi che spagano su la falla Sparca no a Ficar e Fugiti e italiani macha Siamo pure a Gentile Sardi Gale News, break in Italia Sismo bella faña En tuo culo e chela tira fanfare Bala, 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 canta, 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 sata Canguretas come quella in Australia Tanto è rotta l'Italia Ma hai il calcio l'Italia Sono stato ospite a Breaking Italy Mi sono divertito C'è stato un momento in cui si è parlato di Alessandro Cattelan Sul fatto che lui fosse o meno un comico E io ho tirato fuori la carta Numeri di telefono dei Vips Gli ho mandato un messaggio Ho detto ti definiresti comico Lui mi ha risposto dicendo che Grosso modo alla fine sì Visto che fa uno spettacolo che è anche comico E quindi mi ha risposto Ma non durante il live Quindi è un contenuto che non c'è Che non c'è nell'intervista Grazie 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 Grazie